Buonasera Buonasera a tutti Benvenuti questa serata pazzesca Finalmente ricominciamo con questa roba dei 10 film Che vi piacciono tanto, che vi sono sempre piaciuti Tantissimo Come state? Abbiamo una nostra ospite che sta lì Che sta aspettando Ciao 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 a tutti Allora per chi non se lo dovesse ricordare O per chi non lo sappia cos'è i 10 film 10 film non è una classifica L'ho sempre detto e lo continuo a ripetere Perché le classifiche hanno rotto i coglioni Cioè diciamocelo chiaro No diamo i punteggi, le cose No non ci interessa Ma ci piacciono i film Quindi cos'è che vogliamo sapere dalle persone? Qual è il loro film preferito? È una domanda del cazzo Almeno secondo me è sempre stato una domanda del cazzo Qual è il film che ti fa più schifo? Anche quello è una domanda del cazzo Perché poi stai un po' Ne arriva un altro eccetera eccetera Ma sono importantissimi Almeno per me da amante del cinema Quelli che possono essere i 10 E già è difficile Ti assicuro è difficile selezionarne solo 10 I 10 film che per un motivo o per un altro Hanno importanza nella vita delle persone Tutti abbiamo delle cose Tipo film o serie tv eccetera Che ci hanno formato Che ci hanno segnato Che ci ricordano delle cose in particolare E questo perché io lo voglio sapere? Perché non mi so fare i ragazzi mia Perché attraverso queste cose Secondo me è un modo diverso Per conoscere un po' le persone L'ospite di questa sera Ve l'ho già detto Chi è? Lo vedete nel titolo La conoscete tutti Io la conosco da tanto tempo Come utente E da un discreto tempo Come persona Come collaboratrice su alcune cose E ho sempre detto La voce più bella di YouTube Italia La voce femminile più bella di YouTube Italia Che parla di cinema E mi piace molto Il suo modo di parlare di cinema I suoi giudizi personali Il suo modo di esporre Il cinema Alla sua comunità Alle persone con cui parla Lei ha anche un blog Scrive Scrive Anche ha scritto un fumetto Che fra l'altro Di là Fa un sacco di cose C'ha un casino dei progetti È una persona pazzesca E adesso Dopo che ho detto tutte queste cose Che sicuramente L'avrò messa in imbarazzo Ragazzi Date il benvenuto Alla bellissima Violetta Ciao Ciao Ti ho messo un po' in imbarazzo Effettivamente Infatti Io ridevo Proprio perché Mi sentivo In imbarazza Quando uno imbarazza Se no Io reagisco così Mi scappa da ridere Mi scappa Guarda Ma è tutto vero L'ho sempre pensato Quello che hai detto E tu lo sai Te l'ho anche detto di presenza E io ti ringrazio Meglio per molto Allora Molto piacere Intanto grazie Per aver accettato Questa proposta Di fare questa cosa Questa sera Noi ci siamo parlati Pochissimo ragazzi Da pochi minuti Violetta è entrata Perché lo sapete No Non mi vanno le cose Troppo preparate Io infatti Non ho idea Dell'elenco di film Che Violetta ha preparato Perché anch'io Voglio essere stupito Anche se qualcuno Seguendola Diciamo che qualcuno Lo so Perché Seguo Violetta Non Oltre alla mia presentazione Non ha bisogno Di nient'altro Perché la conoscete tutti E se non la conoscete Buttate il computer O il cellulare O la vostra connessione Internet Perché non ne siete degni E quindi Questa sera Violetta ci porta I suoi dieci film Intanto Violetta Prima di tutto C'è una cosa Che io non ti ho detto Che noi facciamo Su questo canale Perché voglio vedere Se tu Riesci a essere pronta O se è una cosa Che magari fai anche te Perché tu fai le tue live Fai le tue cose Eccetera Noi su questo canale Io e Le persone che frequentano Questo canale Abbiamo diciamo Un'abitudine particolare L'abitudine particolare È Che quando siamo In live E chiacchieriamo Io ho sempre detto Questo è Un bar Questa è una sala Anzi un pub È una sala Dove la sera Arriviamo Ci sediamo Ci sediamo E ci facciamo Due chiacchiere Cos'è che c'è In un pub O al bar C'è sempre La birra Oppure il vino C'è sempre qualcosa Da bere Qui c'è sempre Del vino Che ci fa compagnia Io non so Se tu hai questa La ringrazio Io non so Se tu hai Queste abitudini Ma qui c'è sempre A meno Un bicchiere di vino Che fra l'altro È appena finito Ma di là Ci sono altre Due bottiglie Tu non hai La riserva proprio La cantina Assolutamente Tu non hai Abitudini di questo tipo Eh guarda Ti dirò Non mi di che sei a Stemia Non c'ho No 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 Ma figurati Però Me lo dovevi dire prima Mi cogli in preparata Una birretta Me la bevo volentieri Visto che è venerdì Ma ce l'hai Non ce l'ho a casa Eh no Non ce l'ho a casa La prossima volta Lo dico prima La prossima volta Me lo dici Ma beh adesso lo so Quindi la prossima Adesso lo so Non c'hai niente Un amaro È che io non te lo posso offrire Capito Anzi Sai che mi hai appena Dato un'idea Senza volerlo Mi hai appena fatto venire Un'idea Cioè che A te A te ovviamente Anche se Andiamo così Che dalla prossima volta Le prossime persone Che parteciperanno I dieci film Invierò una bottiglia di vino A te te la invio lo stesso A te te la invio lo stesso Perché Perché se non è giusto Capito Esatto Perché se no Non è giusto Non è possibile Ma perché Chiacchierando con te Mi è venuta questa idea Quindi dalla prossima volta I prossimi ospiti Di questa rubrica Riceveranno una bottiglia di vino Secondo me è una cosa Una cosa che si può fare È una cosa molto carina È una cosa molto carina È una cosa molto carina Sì Ma andate guarda Mi trovi veramente impreparata oggi Quindi non c'ho Non c'ho niente Ci inventeremo un'altra cagata Per poter Per poter parlare insieme E farci due chiacchiere Allora senti Prima di cominciare Scusa per prendere una birra Apposta Poi io sono un amante Della Weiss Quindi Non mi ha fatto pure Venivoglia E non c'è Oddio no Neanche io mi ricordo Neanche io mi ricordo Comunque Quando la trovo Eventualmente Prendo quella E se no mi piace Sai quando Si andava al pub Con gli amici Di solito mi piace andare Dove Bire Riene Così Dove ce l'hanno artigianali E magari provare Quella che hanno lì Sai dove devi andare Che te Dato che te Sei pure di Roma Dove te Devi passare Da Italy Hai presente Dai Italy Ci vai ogni tanto Quello che sta Supermercato Ristorante Tutto quanto Quello che sta Ostiense C'è una birreria Là dentro Allora ovviamente Servono tutta birra Artigianale E ti fanno Nola e birra Con dei vari piatti Degli hamburger Delle cose Che so Delle robe Ti giuro Micidiali Io con Martina La mia compagna Ci andavamo Madonna mia Ci andavamo Spesso Pare tipo È finito il mondo Non ancora Però ci andavamo Spesso Va bene Senti una cosa Cosa Magari ci andiamo Quando si ripotrà Uscire tranquilli Da casa Ci andremo insieme Una sera Con molto piacere Senti una cosa Cosa stai facendo In questo periodo Ma in questo periodo Di default Un po' sempre Le solite cose Quindi di base Il canale Sto seguendo Quello Ci sono state Una quantità Di uscite assurde In questo periodo Natalizio Devo dire Che ho fatto fatica A stare dietro Tutte queste uscite Perché non solo C'erano delle uscite Al cinema C'è stata una settimana Che sono usciti Tipo tre film Nella stessa settimana La settimana Spider-Man House of Gucci Diabolic È stata un unico Gucci che ti è piaciuto Tantissimo Per quanto ho sentito Proprio Sei impazzita Impazzita Io l'ho evitato proprio Ho detto Guarda forse no Forse no Guarda Se non è neanche Il tuo genere No sai cosa Ne parlavamo Con Martina La mia compagna C'è puzzava De vecchio Già dal trailer C'è puzzava Proprio tanto De vecchio L'unica cosa Che avrei voluto Vedere In realtà Era la performance Di Lady Gaga Lei ero molto curioso Di vederla Però magari Me lo recupero C'è proprio Andare al cinema Soprattutto in questo periodo Forse no Quindi Certo Mi seleziono Quello che per me È capito Cioè se proprio Devo andare al cinema Con tutto sto casino Vado a vedere Quello che assolutamente Voglio vedere Per forza E magari il resto Visto che ormai Praticamente esce al cinema Due mesi dopo Te lo ritrovi Fra Netflix Però invio Quello che è Lo ritrovi in giro Magari me lo vado a vedere dopo E poi Quindi questo Vita normale Sì assolutamente Vita normale Appunto Che è stata Prenetica Perché ho acquisto Una quantità Dei contenuti Assurda Tanto che oggi Ho fatto un video Dove ho infilato Cinque film Tutti insieme Il video di un'ora Infatti Dove ho infilato Cinque film Tutti insieme Ho fatto il top e flop Dei film del periodo Che è una cosa Che ogni tanto faccio Però a sto giro C'erano proprio Tanti titoli Tutti belli Corposi Perché tanti sono usciti Anche Proprio sulle piattaforme Streaming Alcuni ci hanno avuto Delle candidature Golden Globe Quindi sono anche Importanti Che ne so Ho parlato Del potere del cane Quello di James Champion Su Netflix È stata la mano Di Dio Tic Tic Boom E Incanto Che anche me l'hanno Richiesto parecchio Insomma L'ho messo un po' Tutti insieme Anche perché Se no Cinque Altri cinque video Con cinque film Poi nel frattempo Escono cose Capito Quindi si soglia un attimo Si devo raccogliere In chat Dicono Diabolic Tanta roba Io ancora non l'ho visto Tu l'hai visto Diabolic Neanche io Perché Cioè quella settimana Famosa Che usciva Anche Diabolic Poi sono riuscita Ho visto House of Gucci E Spider-Man Ho dato la priorità Chiaramente a Spider-Man Perché era il titolo Del momento E poi Mi è stato richiesto In particolare House of Gucci Quindi ho scelto Il secondo Che era il più Votato Diciamo Per il mio canale E Diabolic Poi me lo son perso Un attimino per strada Perché poi c'erano Altre cose da vedere E lì sento Sento diverse Diversi pareri Contrastanti No ho sentito È una minchiata Proprio così Secco È una minchiata Altra gente dice Ma qualcosa È gente che urla Al capolavoro Io ancora Non so dove Cioè lo vedrò Ovviamente Però Quando sento Pareri così Discordanti Da un film Un po' Mi destabilizza Perché come fa S Per uno Una minchiata Totale Per l'altro Un capolavoro Assoluto Non lo so Ma sai Questi A volte Sono anche Un po' I social Ti dico Perché I social Tendono Un po' A far polarizzare Le opinioni Alle persone Soprattutto su Alcuni titoli E devo dire Che Quindi magari È anche un po' Per quello Che effettivamente Su Diabolica Ho visto Dei pareti Molto contrastanti Ma così come Li ho visti Su Matrix Che quello Per esempio L'ho trattato Proprio Veramente Fazioni Ben distite Ma come anche Oggi Stavo leggendo Dei commenti Riguardo A È stata la mano Di Dio Anche lì Proprio persone Che mi scrivano Guarda A me è piaciuto Tantissimo Per me Uno dei più belli E alcuni Che mi dicevano Mamma mia Non vedevo l'ora Che finisse Quindi Sono anche In questo caso Sorrentino Sono anche Un po' I social Sorrentino Io so che tu Non ami Particolarmente Sorrentino Non è Tra i miei preferiti Cioè O lo ami O lo odi Secondo me Non puoi uscire Da un film Non puoi uscire Da un film De Sorrentino E dire Carino Però No O ti piace O te fa Propocacà Cioè Io ho amato La grande bellezza Sì 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 Lui è proprio Io ho amato La grande bellezza De Young Pop Lui è uno di quelli Che polarizza parecchio Le opinioni Le opinioni Ecco Voglio voglio Vabbè ma gli piace A lui gli piace Fa Fa ste cose così Allora senti Non prima che poi Ti rubo troppo tempo Questa sera Che già Non ti voglio rubare Più delle due orette Cominciamo Con questa classifica Che non è una classifica Cominciamo Con questi dieci film Ricorda tutti ragazzi Adesso Violetta Ci darà questi dieci film E per un motivo Per un altro Come ho detto all'inizio Sono importanti Nella sua vita Che l'hanno formata In qualche modo Che ti ricordano Qualcosa di particolare Vediamo alla fine Che esce fuori Prego Ma te li dico tutti insieme Uno per un Allora ce ne dici uno E poi ci spieghi perché E andiamo avanti Ne parliamo magari un po' E andiamo avanti così La cosa molto bella Di quando mi è già capitato Di fare questa roba È che molte volte Escono fuori film Di cui io non ho mai sentito Neanche parlare E questo è bellissimo Perché proprio Mi diverto a fare la figura Dell'ignorante supremo È una cosa bellissima Ma guarda Io penso che I titoli che ho scelto io Io sono abbastanza Mainstream Alla fine Non ti ho messo Nessun titolone Di quelli Che non si conoscono Anzi Sono tutti film Che sono sicurissima Che tu conosci Però Come li conosceranno Le persone in chat Sicuramente Questa cosa Questo giochino Mi ha fatto scoprire Tipo di Di Karim Di Yotobi Una roba abbastanza strana Che a lui piacciono Tipo i film Dove si minano male Si spaccano le ossa Proprio male C'è tutto quel Gor strano De botte Pesante Osse Che si spezzano Che escono De forico A lui piace tantissimo Questa roba Io non ne avevo La più pallida idea E mi ha buttato dentro Dei titoli Che Ma te li sei visti Solo tu sti film Lui si E' contentissimo Esatto Quindi Vai Comunque è un genere Catartico Abbastanza Sono persone che adorano Anche gli horror Slasher Splatter Sono molte persone Che li adorano Proprio perché È una sorta di Sfogo voyeristico A me piacciono gli horror Però il gor Non lo capisco Tipo Che io sono una fan Questa roba Così Non comprendo Però aspetto Scream 5 Quello si Non vedo l'ora Di andarlo a vedere Eh guarda È uscito ieri Quindi insomma Appena potrebbe Questo è uno di quelli Per cui andrò al cinema Molto probabilmente Ok Dai cominciamo Tira in fuori uno Allora Il primo che voglio nominare È Il primo film Che io ho visto al cinema Che è la motivazione Per cui l'ho scelto Quindi Essendo il primo film Che ho visto al cinema Sono molto legata A livello affettivo Ed è il mio primo ricordo Al cinema Quindi il ricordo Dell'incontro Con il mio primo Gran umore Fondamentalmente E Avevo Quattro anni Mi sembra Tre e quattro anni Quindi ero Frizzata Sì ti sei frizzata C'hai la connessione Che va un po' Eh aspetta È ripartito No Vai Hai la connessione Che va un po' A scattini Mi senti Aspetta Sì 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 Io ti sento Ok Tu mi senti Sì sì Adesso sì C'è stato Per un attimo Che ti eri frizzata Eccetera Ma adesso è ripartito Allora forse C'è avuto un attimo Un calo Un panico Non è mai stato così Avvertimi Cioè prova ad avvertirmi Sì sì Se si frizza Io Capita se si frizza Un attimo Niente Però se ti blocchi Proprio te lo dico Vai Dunque Quindi il primo film Che ho visto al cinema Avevo tre o quattro anni E si tratta di un film Disney Ovviamente un bambino Che cosa lo porti a vedere al cinema E fu La Sirenetta Oddio Primo 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 Ma lo sai che è il primo 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 film Che ho visto al cinema Anch'io La Sirenetta Il primissimo Non mi ricordo Io ero più grande Avevo tipo 8-9 anni Una cosa del genere Perché effettivamente Tu di che anno sei? 87 Esatto Io sono dell'80 Quindi Nel 90 Allora avevo 10 anni 91 Avevo 10-11 anni Avevo 10-11 anni Ma è stata In Italia uscivano un anno dopo Sì un poco dopo Esatto Forse è del 91 Però Ed è la La prima volta Che ho messo piede in sala Ovviamente I miei genitori Con gli amici Degli amici Degli amici Una carrettata Di ragazzini Non so se la tua esperienza È stata pure quella E fu il mio primissimo Cosa ti ricordi? Sicchissima questa cosa Cioè veramente Ti giuro È veramente particolare Questa cosa Strano Strano Ma cosa ti ricordi Quel giorno? Ma Mi ricordo Che è stato Molto emozionante Vedere questo schermo Così grande Davanti a me E seguire Questo 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 spettacolo Diciamo È stato proprio Non lo so Il battesimo del fuoco Capito Adesso Un rito Di iniziazione Tipo È stata una cosa Molto bella Poi io andavo A un cinema Che era L'unico Io sono nata E sono cresciuta A Ostia Fondamentalmente Poi più da grande Mi sono spostata A Roma Per chi ci stesse Seguendo da fuori Roma Ostia è comunque Roma C'è un quartiere di Roma Però è quello Il mare Ma sul mare Ecco Mettiamola così Quindi è periferico Ecco Ostia Diciamo che sembra Tipo una cittadina Una cittadina a sé Ecco E quindi Quindi c'era Fondamentalmente C'erano due cinema Di cui uno Era quello Proprio dove andavano tutti Era quello proprio Grande Si chiamava Cinema Assisto Adesso non esiste più È diventato purtroppo Una sala Dingo Però ok E vabbè E vabbè Perché era sala unica Era sala unica Esatto Bravo Era una sala unica Anni dopo Infatti Quando io ormai ero più grande Era adolescente Aprirono il multisala E quindi I due cinema piccoli Che avevano una sala sola Sono deceduti Purtroppo Anzi Hanno cambiato Attività Ecco E da quello poi è successa Questa cosa Che hai cominciato a rompere Le palle Che volevi andare al cinema Ti ricordi Qualcosa del genere Cioè hai cominciato A drogarti di cinema Da già quattro anni Che è successo? Praticamente qualcosa del genere Nel senso che Da lì in poi Ci sono stata Una serie di anni In cui venivo Porciane Che sceglievo io I film All'epoca Un gusto Erano i genitori Che erano piccoli Che quando vedevano Che usciva il film Disney Portavano me E poi negli anni Anche quando è nato mio fratello A vedere i cartoni animati Fondamentalmente Disney Quindi io Per svariati anni Mi ricordo di aver visto lì La Sirenetta Poi successivamente Aladin La Belle e la Bestia Pure Tutti quei film degli anni 90 Diciamo Tutti quanti lì E pensa che Con la scuola Invece Ci avevano portato A vedere Pocahontas Quello Mi ricordo in particolare Pocahontas Perché Non l'avevo Non erano andato a vederlo A vederlo con Amichette Amichetti E genitori Ma con tutta la classe Proprio Eravamo tutti rimasti Un po' interdetti Perché era il primo film Disney Che aveva Almeno di quelli degli anni 90 Che vedevo io Insomma Della mia generazione Che aveva questo finale Agrodolce Perché Disney Era famosa Per avere Sempre indietrofine E invece Ci fu questo Primo finale Agrodolce Che lascia tutti Un po' Destabilizzati Ma quindi Questo è stato proprio Il tuo primo impatto Con uno schermo grande Cioè oltre la televisione È stato proprio quello Te lo dico Perché Nel mio caso Invece Quella è stata La prima volta Al cinema Però non è stato Il mio primo impatto Con uno schermo grande Perché io sono andato All'elementari Dalle suore E le suore E le suore Sappiamo tutti Essere un po' Satiche Perché Le suore Sono un po' Satiche Ho sempre Sentito Io non sono andato Le suore Ma Le suore Sono satiche Ho sempre raccontato Questa versione Che stai dando tu Quindi Devo credervi Direi Un anno All'asilo E 4 e 5 anni Per le elementari Sossatiche Perché Ogni anno A Pasqua Ci portavano Il refettorio Mettevano Sto Telone Gigante Bianco Quindi facevano Questa specie Di saletta E Montavano Il proiettore 8 mm Collegato A una cassa E ci facevano Vedere Ogni anno A Pasqua Gesù Cristo Di Zeffirelli Quindi In realtà Il mio primissimo Impatto Con Uno schermo Grande E' stato Con tutto il rispetto Per il maestro Zeffirelli Ce mancherebbe altro Però E per Gesù Cristo Un po' Un po' Più per Zeffirelli Però Nel vedere Ogni anno A Pasqua Questa storia Atroce Poveretto Perché per dei bambini Che ci parlavano Di questa persona E poi c'era Mi ricordo Uno dei miei ricordi Più assurdi Di questa situazione E che poi A un certo punto Arriva la scena Della crocifissione E quindi mi ricordo Un mare di pianti C'erano le ragazze Che piangevano I maschi Che si nascondevano Perché avevano paura Di vedere la scena Dei chiodi E c'era Ogni anno Sto supplizio Infatti Quando poi Sono andato a vedere Sono andato al cinema Io inizialmente In realtà Avevo Cioè Non mi faceva Impazzire L'idea Di andare a vedere Ma sì Avevi associato Comunque quella cosa A un'esperienza Spiacevole Perché le uniche volte Che vedevo un film Non a casa Alla televisione Con mamma e papà Accanto Sai da piccoli Qualunque cosa Succede nello schermo Comunque sono i tuoi genitori Sei a casa Sei in famiglia Ma a scuola Con i tuoi compagni di classe In una stanza buia Con questo schermo gigante Era sto povero Cristo Che se faceva anch'io Da Quindi Ogni volta Esatto Ogni volta Era Era angusciante La prima volta Che sono andata al cinema E ho detto Madonna E invece poi È stata una bella esperienza È stata una bellissima esperienza Ma sicuramente In confronto Alla crocifissione di Cristo E giustamente Eli in chat Dice Ti è andata bene Che non era ancora Stato girato La passione di Cristo Perché prova a pensare Che quello è Veramente pesantone Se c'era quella roba In aramaico Con questo tizio Che gliene fanno Deve peggio cose Se avrebbe stato micidia Ti giuro Assurdo Veramente assurdo Cioè Per me è inconcepibile Far Diciamo Sottoporre dei bambini A vedere Ma le suore Sono sadiche Te l'ho detto Cioè Proiettate piuttosto Un film De Natale A Natale Cioè Che ne so Un qualsiasi film Di Natale Il periodo di Natale Ma non a Pasqua Te fai vedere Gesù Cristo De Zeffirelli Che è una tragedia E mane Per cazzo Dei film Bellissimo Però Per un ragazzino All'elementare Ragazzi Non è proprio Una meraviglia A poi tutti gli anni Cioè Ogni anno Ogni anno Ogni anno Mamma mia Cioè Quasi un lavaggio Del cervello Traumatico Tra l'altro Capito Ogni anno Giustamente Albanuela dice Ma anche un cartone Di Gesù Di quelli Ma non c'è Non credo ci fossero Il principe d'Egitto Ah no Ma io ti sto parlando Dell'85 Nell'85 Cioè Una cosa Capito Una cosa allucinante Era stasora Che tirava fuori Sto proiettore Perché non avevano La videocassetta Avevano L'8 mm Quindi tirava fuori Il proiettore Con le pizze In 8 mm E c'era Il primo tempo Su una pizza Il secondo tempo Su un'altra Giustamente Quindi quella Per me Era proprio Una proiezione Cinematografica Nel refettorio Del Del De suore Però Madonna Pensa te Mi immagino Traumatico Traumatico Guarda che poi Stava seduta Perché sto proiettore Ovviamente era appoggiato Su uno sgabbello Altissimo E stava seduta Con una sedia Là sotto Così con accanto Sta cassa Che urlava Praticamente Era una roba Tremenda Tremenda Giustamente Pensa loro Per quanti anni L'avranno visto Perché immagino Che sarete state La prima Nell'ultima Classe Ogni anno Ogni anno Tutte Tutte le classi Tutti quanti Tutta la scuola Tutta la scuola Dalla 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 Terza Mi pare che era Dalla terza Alla quinta elementare Non i primi e secondi Dalla terza Alla quinta elementare Quindi io per tre anni Ho dovuto vedere Sta roba Ma c'è Deve scioccante Capito Dalla terza elementare Dalla terza elementare Ma andiamo avanti Se fossi te Nei tuoi dieci Questa esperienza E questo film Nei miei traumi Nei miei traumi D'infanzia Quando si va Qual è un Ti hanno picchiato A bambino No Però Ho subito Questa violenza Da un certo punto di vista E va bene E va bene E va bene E' andata così Per fortuna Poi è arrivata la sirenetta Poi la bella e la bestia Tutta una serie di cose Poi il cinema vero I film Le compagnia bella Che mi hanno fatto cambiare idea Però L'inizio Proprio il primo impatto E' stato quello Che non era proprio bello Drammatico Esatto Giustamente Dani Dimmi Eh no scusa Giustamente Dani dice Ora si capisce Da dove vengono fuori Molti Dei due problemi Sì Altarini Altarini svelati Esatto Stavi dicendo Scusa No dicevo che poi Essendo stato il mio primo film La sirenetta E' stato Per tanti anni Tipo il mio film preferito No? Beh La bambina Insomma Ne hai visti Due in croce Quindi Per tanti anni E' stato proprio il preferito Anche perché era legato A questa emozione Di questa prima esperienza E poi Da adulta Cioè Ancora per tanti anni L'ho sempre ritenuto Il mio preferito Tra i disney Poi a un certo punto Ho cominciato A imparare Che significa Guardare i film Con occhio critico E quindi Ho cominciato A notare Che insomma La sirenetta Era un film degli anni 90 Che stava invecchiando Per certi versi Per certi versi Anche un po' male Però le canzoni Sono bellissime Ma stai scherzando Ma quelle sono tutte a memoria Ma comunque effettivamente È un film del cuore È chiaro Poi è ovvio Che quando uno cresce Li mette in prospettiva Però comunque Io ogni volta Che sento Part of the world Ancora Mi commuovo Capito Non reggo Il mio cuore non regge Il mio rapporto Con la sirenetta È cambiato nel crescere Perché inizialmente Ovviamente da piccolo Ursula La detestavo Come penso Tutti i bambini Che vedo Poi a un certo punto È diventato Il mio personaggio preferito Ursula Mi piaceva un sacco Non mi ricordo Il nome della doppiatrice Ma avevo una voce Bellissima Ursula Mi piaceva troppo Anche il pezzo musicale Di quando c'è lei Che si presenta Che è un po' più jazz È molto molto bello No ma lei È un personaggio Effettivamente Favoloso Chiaramente Con occhi di bambino Lo vedi come la cattiva E quindi ti Non ti sta così simpatica Con quelle murene Che cos'erano Le murene Le murene Mi pare che erano Sì Perché erano delle murene Però poi Una volta cresciuto Ursula è favolosa 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 Assolutamente Perfetto Dai Quindi cominciamo Con la sirenetta Perché è il primo film Che hai visto al cinema Andiamo avanti Poi Allora Siccome non dovevamo Scegliere tutti i film Legati a ricordi positivi Almeno io ho pensato Che così Era un po' più vario No? Variegato Che sennò Che noia Il secondo Che ti metto Che ho messo in lista È Un film Di Robert Zanekis Se non sbaglio Non vorrei Verdi Una cavolata E Infatti adesso no Prima di dirtelo Devi controllare Ok 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 Cioè Pacemaker dipendente Dice Ursula Identica La nostra prof di inglese Dell'elementari Ammazza Quindi c'è Se da piccolo Hai visto sto film Ti sei trovato Ursula All'elementari Penso al trauma Comunque vedo che Stasera Traumi ci siamo Stasera Seduta di psicanalisi Insieme Ci andiamo bene Hai controllato Ed Zanekis Di Robert Zanekis Ed di Robert Zanekis Anche Anche qui Ero Ero molto piccola Effettivamente L'ho visto da molto piccola E adesso Perché era del 92 Questo film Ok Io appunto Nel 87 92 Era ancora una ragazzina Ed era La morte di Fabella Bellissimo La morte di Fabella Ecco Io lo amo Alla follia Quel film Lo amo Alla follia Però dimmi Oggi anche io Lo amo Alla follia Ma l'ho dovuto rivedere Da adulta Dopo tanti anni Che l'ho rivisto Per caso E poi mi sono accorta Che era La morte di Fabella E ho pensato Ma questo film È geniale È esilarante È stupendo E loro sono bravissime Ma quando ero una ragazzina E ho visto questo film E boh L'avranno mandato in onda Su Italia 1 Non lo so Io non mi rendevo Non L'ho letto Come se fosse Quello che è Cioè un film Che è una commedia Praticamente Con un inedito Bruce Willis Era bellissimo Bruce Willis La era La prima Le prime volte Gli facevano fare Queste parti Un po' più Come di Sì l'hanno Imbruttito Pure Eccetera Intanto c'è Gianni Ciao Gianni Ciao Gianni In chat Quindi Perché Che impressione Ti ha dato Mi aveva terrorizzato Cioè per me A quanto c'era 87 Nel 92 C'avevo 5 anni Per me era L'ho visto in tv Quindi ci avrò avuto 6-7 anni Magari mettiamo così Mi aveva terrorizzato Per me era come se Avesse visto Un film horror Per me era un film horror Ero terrorizzata Pensa che Proprio questi Ci saranno altri film Che hanno spaventato Sicuramente sì Però non me li ricordo Questo proprio mi è rimasto In testa Perché è stato il primo film Che mi ha terrorizzata E io Ci ho avuto Più di una notte In cui Ho fatto degli incubi Su questo film E mi svegliavo Gridando Addirittura I miei genitori Ma cos'è che ti ha spaventato Così tanto C'è un qualcosa Che ti ricordi Che ha proprio Ti ha spaventato tanto L'elemento Body horror Ok Lo sparo nello stomaco La testa che si rigirava La parte diciamo Body horror Che fa ridere in realtà Se l'ho venita grande Però Però per me era proprio Body horror Ok Cioè Ti avevo terrorizzata Perché era la prima volta In vita mia Che vedevo Delle persone In carne ed ossa E non capivo Cioè Sapevo Che fossero effetti speciali Però Non mi Per me sembravano Non mi sembravano effetti speciali Capito? Anche perché hanno fatti Porca puttana Benissimo Cioè C'è la parte in cui Lei c'ha il buco E si siede Che c'è il palo Che esce fuori dal buco E' fatto benissimo Assolutamente Quindi pensate Negli occhi di una ragazzina Che non ha mai visto Nulla del genere Proprio Mi aveva Scioccata E ti giuro Più di una notte Che in freda All'angoscia Che svegliamo Strillando Per quel film Perché me l'avevo sognato Capito? Durante la notte E quanto tempo Te l'hai portata dietro Questo terrore Per la morte Che gli fa bella? Eh Beh Negli incubi Sono durati poco Però nel senso La repulsione Per il film È durata tanti anni Ti ho detto L'ho rivisto Da adulta Per caso E Sono soltanto Da adulta Per caso Anni fa Ormai Tanti anni fa Però comunque E mi sono accorta Che è un film comico Ma questo film Lo fa ridere in realtà Cioè Non era Non era spaventoso Non era neanche drammatico Non era Cioè Era proprio un film Che è una commedia Comico Sì 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 E per esempio È stato bello Il fatto di averlo rivisto E di aver Come dire Superato questa Cioè Averlo rivisto Da grande E aver fatto Come tutto qui Vabbè era una cosa bella Cioè Di averlo amato poi Di averlo apprezzato così tanto È stato catartico Diciamo Credo che vada bene Mi sono abbassato anche io Così è tutto a posto Ti ripeto Non ricordo esattamente Quando l'ho vista La prima L'ho vista la prima volta Molto probabilmente Sono state le mie cugine Che sono quelle Che mi hanno fatto vedere La maggior parte Di film Che poi hanno segnato La mia vita Tipo i Goonies Me lo facerò vedere loro E però Mi ricordo che mi è piaciuto Cioè ero piccolo Potevo avere Che ne so 12 anni 13 anni Una cosa del genere O piccolino Però mi è piaciuto proprio tanto E poi c'era A parte c'era Bruce Willis Meryl Streep Non mi ricordo Come si chiama Quell'altra Goldie On Goldie On E poi c'è Alla fine La tizia Quella che ha Il siero Della Dell'eterna Giovinezza Che invece È un'italiana Se non ricordo male Dovrebbe essere La Rossellini Isabella Rossellini Isabella Rossellini Di una bellezza Di una bellezza Sconvolgente Sconvolgente Quindi doveva essere Capito L'immagine Che doveva invogliare loro A desiderare Di essere L'eterna Giovinezza Esatto Bellissima Lei bellissima Era tutto bello In quel film Io me lo ricordo Solo come una cosa Bella Che mi ha fatto divertire Di base Di base Mi ha fatto divertire Rivedendolo Poi da adulto Tutta la critica La bellezza Rincorre L'eterna bellezza Blah 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 Però c'è una frase Di quel film Che mi ricordo Già da piccolo Mi piacque molto Che è quello che Sostanzialmente Quello che si dice Alla fine Cioè che L'eterna Giovinezza Non ha senso Per diventare immortali Devi far qualcosa Che magari rimane Come quello che fa Poi il personaggio Bruce Willis Dopo la vicenda Quando loro Alla fine Vanno al funerale Raccontano Che lui ha fatto Tutta una serie di cose Che lo hanno reso Un personaggio Comunque in vista Importante Amato da tutti E quindi In quel modo È diventato immortale Tutta questa cosa Me la ricordo Già da piccolo Questa frase Poi da più grande Mi sono detto Ah guarda infatti Fico Come concetto Sì sì no Infatti era una commedia Anche con dei contenuti No Con degli insegnamenti Diciamo Quindi sì L'ho apprezzata da grande La piccola Giustamente Ema dice Oggi la Rossellini È invecchiata Non poco E vabbè Da quel film Sono passati Come dice Gresham Ma è un essere umano Reale Sono passati Pure 30 anni Ma fra l'altro Però in quel film È eternamente Eternamente giovane È cristallizzata lì E in quel film Lei rimarrà sempre così Sì non mi ricordo La battuta in italiano Che era sempre Lo diceva in spagnolo Tipo Sempre viva Eternamente giovane C'era pure come battuta Una cosa del genere E poi Isabella Rossellini L'ho ribeccata A parte in qualche film In giro Però come personaggio fisso Dentro alias La serie con Jennifer Garner Non so se l'hai mai vista C'è lei Qualche episodio C'è lei che fa un personaggio Del russo Adesso non mi ricordo Di quale Cosa Polizia Servizi segreti russi Non mi ricordo C'è sempre lei Capelli corti Faccia più gonfia Ovviamente è cresciuta Sempre una bella donna Comunque Bellissimo La morte ti fa bella Cazzo E io amo quel film Alla follia Dai Bello Fico È bello È bello Però era spaventoso È interessante però Che effettivamente Agli occhi di una bambina Quel tipo di commedia Può dare quell'idea Prima in chat C'era qualcuno Diceva ma come ti ha fatto paura E l'hai visto fino alla fine No infatti Assolutamente no Io mi ricordo Di aver visto Che gli incubi Me li facevano venire Queste L'ho visto fino alla fine Da adulta Cioè so Però da piccola Adesso da grande Da piccola no Da piccola avevo visto Mi erano rimaste impresse Le scene Quelle che poi sono Le più comiche Sì Del buco nella pancia Del Quando lo scopre Bruce Willis Scopre La palata in faccia Esatto Tutta quella parte là E poi ovviamente Non è che l'avevo finita Poi sono scappata Arrivata lì O di va bene Ciao E te ne sei andata È finita Esatto Qualcosa del genere Zemechis hai terrorizzato Violetta da piccola Andiamo avanti Bello Purtroppo sì Ma Non solo però dai Zemechis non mi ha solo terrorizzato Zemechis ma almeno è stato Croce Delizia Perché se mi ha terrorizzato Con la morte di Babbella Ovviamente Già prima ho visto in chat Qualcuno aveva già immaginato Io questo film L'avrei portato Ci sono tutta una serie di cose Che Andiamo avanti Esatto Quindi Zemechis Sei il prossimo Visto che stavamo parlando di lui È di nuovo il regista Che è Per la seconda volta Nel mio elenco E non posso non nominare Il film che ha letteralmente Segnato la mia vita Che è Ritorno al futuro Il primo Ma tutta la saga Direi Cioè io Li ho visti tutti e tre Milioni di volte A dire poco Penso Cioè ho 18 cofanetti Tutte le edizioni Tutte le versioni Proprio È proprio il film Della mia vita Che è un film Che ovviamente C'ha un sacco di anni Quindi è invecchiatissimo Sicuramente C'ha tutti i suoi milioni Di difetti Tutte le sue Però Ma chi cazzo Se ne frega Esatto Cioè il film Proprio del mio cuore Il film proprio Che mi ha Fatto innamorare Definitivamente Del cinema Cioè Dopo Ritorno al futuro Io ho detto Io voglio fare questo Nella vita Lo scienziato pazzo No Lo scienziato pazzo No Voglio fare Voglio raccontare Questa storia Ma ti ricordi Quando l'hai visto La prima volta? Eh lo sai che Non l'ho visto al cinema Io lo vedi sicuramente A casa Sicuramente Non l'ho visto al cinema Infatti Non lo so Prima o poi Quando rifaranno Uno di questi eventi In cui lo ridaranno al cinema Io lo sfizio Di vederlo in sala Ce lo devo avere Perché Prima o poi Me lo dovrò togliere Perché io non l'ho mai visto Al cinema Questo film Io sì Il secondo Il secondo L'hanno rifatto Il 21 ottobre 2015 C'era la data Giusto Hanno fatto Hanno fatto Ritorno al futuro Parte 2 Al cinema E sono andata A vederlo ovviamente Subito Qua a Roma Ed è stato Un bel impatto Vederlo in sala Grande Col suono Pazzesco Eccetera eccetera Effettivamente Un film con Videocassetta Ma distrutta Un dvd martoriato Un blu ray Pure E peggio Vederlo in sala È stato Particolare Quindi Poi Poi me lo toglierò Questo sfizio Infatti Cosa ha fatto Nella tua testa Sto film Cioè Cos'è che ti ricorda La prima cosa Cioè Quando pensi Al ritorno al futuro Ci sarà tipo Mi so La prima cosa Che ti viene in mente Il flusso canalizzatore Il flusso canalizzatore Ma guarda Mi ha fatto Amare Le storie D'avventura Di fantascienza Fondamentalmente Per me era qualcosa Di Qualcosa che Era un'espressione Che non aveva limiti Un modo di Parlare di cinema Di fare cinema Che per me All'epoca Non aveva Io ovviamente L'ho visto Un pochino più da grande Perché il film è tipo Il primo dell'85 Se non sbaglio Quindi io non ero ancora Neanche nada Perciò l'ho visto Comunque da piccolina Cioè Intorno ai dieci anni Ecco Forse anche prima Però comunque L'ho visto che era uscito Da un po' Perché anche per questo Non l'ho visto al cinema E Però è stato proprio Quel film Che mi ha fatto dire Al cinema Il cinema È un mezzo Che veramente Non ha limiti Non ti mette limiti All'immaginazione E E poi Trovavo Già Mi piacevano Già Rimanevo attratta Diciamo Dal modo di recitare Dall'interpretazione Di personaggi Da questa storia Con i viaggi nel tempo Non lo so Era proprio qualcosa Che mi faceva Sognare Senza limiti Immaginare Senza limiti Mi dava l'idea Di poter Immaginare Qualsiasi storia Senza nessun limite Ed era È stato veramente Ci sono affezionata In una maniera Incredibile Per me Infatti Quando mi chiedono Qual è il tuo film preferito Io dico Guarda È impossibile Dire un film preferito Perché ogni anno Ne esce uno Che uno dice Anche cambi tu Cambi la tua sensibilità Eccetera Io di solito Dico Ritorno al futuro Come film simbolico Preferito Della mia vita Rimarrò per sempre Affezionata Ritorno al futuro Guai Se fanno Un cazzo Dire me Io ve lo dico Non lo voglio Non lo voglio Allora Ti dico la mia Con Ritorno al futuro Ci sono vagamente Legato anche io Adesso Non tiro fuori Tutti i vari Gadget E cazzate varie Che ci sono dentro Questa casa Riguardo Ritorno al futuro Non so se tu riesci A vedere questo Esatto L'ho visto proprio Dal momento in cui Mi sono connessa Con te Lo adocchiamo subito Però c'è quello Che è un acquarello Fatto da un artista Amico mio Che mi ha Quel quadro Mi l'ha regalato Martina La mia compagna Quando ho fatto 40 anni Gli ha commissionato Questo coso Ne esiste una versione Ed è mia E io sono felicissimo Di questa cosa Lui è bravissimo Fra l'altro Simone Fa le magliette Fa delle magliette Delle stampe A tema cinema Ragazzi voi Chi frequenta questo canale L'ha visto altre volte Mi dico a sette cose Eccetera Blu-ray Giocattoli Sembra un ragazzino Cretino Cioè ho tipo Tre o quattro Delorean Giocattoli vari Eccetera E quello è Credo l'unico Film nella mia vita Che l'ho visto Per un mese Di fila Più o meno Ogni giorno Una volta al giorno Il primo Sai quando i bambini Pizze Non ero Non ero più Un bambino Perché io lo vidi In televisione Me lo faceva Vedere mia zia Questo Mi disse L'ho visto al cinema Con lo zio Vallo a vedere Guardalo Che lo fanno In tv E bellissimo Lo vidi in televisione Da allora Era poi Rompetti coglioni Tantissimo A mio padre Che riuscì a recuperare La videocassetta Non so Registrata dove Non so chi Gli avva Non so se fu pirata Non so niente Non mi ricordo Cioè era sto film In videocassetta E si vedeva bene E arriva a rullo A rullo Il primo Capisco la sensazione A rullo Perché poi La cosa bella Di questa trilogia È che sono Tutti e tre Bellissimi Cioè di altissimo livello Tutti e tre Non è che dici Però sai poi Il secondo Il terri sequel Sono sempre Per quanto mi riguarda Sono tre film Pazzeschi Tutti e tre Perché poi Alla fine Era un'unica Grande storia Che loro Hanno suddiviso Per ovvi motivi Perché non poteva essere Il film In sei ore E non era un telefilm Però in realtà L'hanno girato Praticamente Quasi tutti insieme Il secondo Il terzo L'hanno girato insieme Il primo No Perché Vabbè C'è tutta la storia Particolare E loro volevano fare Il primo Non glielo voleva Produrre nessuno Perché non volevano La parola futuro Nel film E poi La prima macchina Del tempo Era un frigorifero Ci sono tutta una serie Di storielline Sì E il primo Soprattutto per la Cia da te Magari non lo sanno Il primo L'hanno girato Non pensando Di dover fare Un secondo Invece Quando poi Gli commissionarono Il secondo Pensarono Va bene Facciamo il secondo E il terzo Gli commissionarono Il secondo E il terzo Il terzo Ci fu questa idea Facciamo dei western Nessuno fa un western Da un sacco di tempo Facciamo il western E infatti Ci sono Di fantascienza Di fantascienza Bellissimo 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 E infatti ci sono Tutta una serie di cose Per esempio La storia del secondo È stata modificata Più volte Perché Crispin Glover Che è l'attore Che faceva il padre Di Marty McFly Che fece delle richieste Assurde Per partecipare Al secondo film Che Bob Gayle E Zemeckis Che erano coproduttori Dissero No Cioè No Vaffanculo E Bob Gayle disse Guarda forse Se non viene meglio Perché la storia Da così La modifica Ma così Ed è pure più figa Infatti lui non c'è Nel secondo No Lui non c'è C'è solo una fotografia Sua nel secondo E basta Che è quella che si vede Nel giornale Esatto E poi c'è un attore Che lo sostituisce Perché lui Il personaggio Compare a un certo punto Nel futuro E a testa in giù Tra l'altro E l'hanno messo A testa in giù Apposta L'hanno messo a testa in giù Apposta Messa a testa sotto Pensando che avesse Chissà che cosa Nel futuro C'è sto Marchingegno Per cui la gente Va col bastone I vecchi Nel futuro Vanno a testa sotto Il mal di schiena Cosa del genere Lui si è a testa sotto Proprio per non farlo riconoscere Fu un'idea geniale Quel film è pieno Di idee geniali Pieno 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 di idee geniali Infatti se mi devono Costringere A sceglierne uno Il mio preferito Tra tutti e tre È il secondo Perché il secondo È veramente Di un dinamico Cioè è esplosivo Succede una quantità Di cose incredibili È forsennatissimo Eppure Cioè c'è un ritmo assurdo Eppure non perde un colpo Cioè tu sei proprio lì Cambia un sacco di scenari Un sacco di situazioni Eppure non dà Una sensazione tipo No Troppa carne al fuoco Troppa roba Troppo fettoloso Invece non dà assolutamente Questa sensazione È veramente Pazzesco Pazzesco Paradossalmente E questo me lo fece capire Tanto Cioè me lo confermò Più che altro Un ragazzo Si chiama Fabio Antonelli Di cui io parlo spesso Qua dentro Non so se lo conosci Che è un compositore Che ha un podcast Che si chiama Suona quasi bene Una cosa del genere Che parla spesso Di colonne sonore Ha analizzato La colonna sonora Di Alan Silvestri Che è pure quello Macinato Che lascia perdere E parlava proprio Di come la colonna sonora Racconta Con i tempi Le pause Fra le note Eccetera eccetera Racconta Le storie Di queste persone Che viaggiano nel tempo Ma non hanno mai tempo Perché effettivamente Loro a qualunque cosa Arrivano all'ultimo momento Con la follia Loro arrivano All'ultimo momento A fare quello Che devono fare Eppure hanno Una macchina del tempo È un controsenso folle C'è una scena addirittura In cui lui C'è Marty Che dice Oh mio dio Devo salvare Doc Ma non ho tempo Poi fa Aspetta ma io Ho tempo Una macchina del tempo Eppure Nonostante lui A tempo Invece di selezionare Tipo un po' Un'ora prima 10 minuti Così basterà 10 minuti prima Perché il film è quello Parla Deve essere frenato Scusate ragazzi Forse ne stiamo parlando Un po' troppo Però lei è fissata Io Quanto lei Ritorno al futuro È bellissimo Bellissimo Grazie Violetta Per aver tirato fuori Ritorno al futuro Che è uno dei miei 10 film ovviamente Che poi non solo il primo Tutti e tre Sì sì Concordo Tutti e tre Io dico Ritorno al futuro Lo immagino sempre Come saga Diciamo Ma è come singolo Ecco Quindi Tutti e tre Meravigliosi Meravigliosi Se per caso Non li avete visti Perché magari c'è in chat Qualcuno Che poi alza la mano Un po' più giovane E dice Boh non l'ho Non l'ho mai visto No Non se può fa Valla a vedere Gianni ricorda Che poi a una certa Si doveva chiamare Spaceman from Pluto Vero C'era anche questo titolo qua Sì sì No Queste cose Non le so Sono Poi Gianni Prima o poi mi devi raccontare Tutti i retroscena Perché Sono curiosissima Sto film C'ha dei retroscena Folli Veramente folli La cosa che mi piace tanto Di questa roba È che ovviamente Dietro c'è pure Il zio Steven Perché lui Stefano Stadda per tutto Certo Soprattutto nel cena Negli anni 90 Nel cena Negli anni 90 Se c'era una roba figa Americana C'era di mezzo Steven Spielberg Non se ne esce Incredibile Era così Dai Andiamo avanti Andiamo avanti Quarto film Allora Allora Vediamo un po' Allora Qui ho messo Un film Che È sempre Un film Diciamo Di questi Molto Dell'infanzia Della gioventù Comunque Dei comfort movie Diciamo Dei film Con cui Cresci insieme Che ti rimangono dentro Per qualche motivo E Con un attore In particolare Che Io penso che O non solo per me Ovviamente Ma per tutti noi Tutti quelli Anche della mia generazione È stato L'attore Della nostra Adolescenza Infanzia L'attore che proprio Ha segnato Tutti quei ricordi Di cui abbiamo visto Tantissimi film Ovvero Robin Williams E ne ho scelto Li avrei potuti dire tutti Perché per me È un catalogo Capito Jumanji Hook Cioè tutti Proprio sono pezzi di cuore Però ho selezionato In particolare Mrs. Dogfire Bellissimo Bellissimo Veramente Una cosa Incredibile Quel film Capolavoro Assoluto Perché? Perché era Divertentissimo Perché era geniale Perché Faceva morire Da ridere Sapevo le battute A memoria L'avrò visto Un milione di volte Anche insieme a mio fratello E veramente Ogni volta Ridevamo Per le stesse cose Praticamente E Perché mi divertiva Tantissimo Vedere lui Che si Travestiva Mi piaceva Quest'idea Del teatro Del travestitismo Del crossdressing Mi affascinava Tantissimo Questa cosa Tanto che poi Mi hanno sempre appassionato I film Che trattano Questo tema Poi Ce n'è uno Molto bello Che si chiama Piume di struzzo Una roba del genere Io lo conosco Benissimo L'ho bisogna Fattisciare Da revisate Sempre con Robby Williams Se non ricordo male Sì sì Come no Lui e Cosa Nathan Lane Ok Non mi ricordavo Divertentissimo Forse un po' Macchiettistico Però insomma Per l'epoca Possiamo contestualizzarlo Lì Era molto molto divertente E poi vabbè Sono andata in fissa Con Rocky Horror Più da grande Insomma Ho sempre trovato divertente Queste cose Belle da mettere in scena E quindi Adoravo infatti La mia scena preferita In assoluto Di Mrs. Dotfire Era la trasformazione Di lui Quando lui canta pure C'è un pezzettino C'è la canzone sotto Lui ha una certa La canta Sì sì C'è quel footage Dove praticamente Gli cambiano look Svariate volte Per decidere Qual è l'aspetto giusto Per fare la tata Ed è Lo trovavo molto divertente Perché poi Robby Williams Appunto era così Ma era un po' di gomma Faccia tutte queste imitazioni Con tutti questi personaggi E ogni look Lui trovava L'interpretazione giusta A un certo punto Imita anche Barbara Streisand Era molto divertente Non lo so Ecco Quella è tipo La mia scena preferita Del film E poi aveva anche Tutto Tutto La parte In cui Poi Il tema serio Del film Era la separazione No? Dei genitori Quindi il divorzio Trattava questo tema Del divorzio In un formato Per bambini Capito? In un formato Per ragazzi E questa cosa Secondo me Era molto Molto interessante Cioè oggi Penso Secondo me All'epoca Era molto interessante Era molto bella Perché era un tema Delicato Magari ancora più sentito All'epoca Ed era complesso Parlarne A dei bambini No? E invece Loro erano riusciti Comunque A fare qualcosa del genere Mi è rimasto Tanto dentro Mrs. Doffire Anche perché I tempi in cui Io lo vedevo Era una cosa Che non mi riguardava Però a un certo punto Quando mi ha riguardato In prima persona Quando i miei Si sono separati E hanno divorziato Il primo film Che per me È stato un appiglio Un aggancio Un riferimento È stato Mrs. Doffire Cioè Mi era rimasto Talmente dentro Talmente nel cuore Che è stato Il mio film Diciamo Comfort movie Da quel punto di vista Cioè Mi sono subito Ridentificata In tutta quella In tutta quella Situazione E l'ho un po' vista Come una cosa Che No Non stava succedendo Solo a me Non era una cosa Ma era una cosa Che avevo già visto Che avevo già visto Succedere Che avevo Già contestualizzato Diciamo Che già sapevo Che esisteva E che Non lo so Quel film mi ha aiutato A prenderla Un po' a metabolizzare Anche la situazione Molto probabilmente Eri piccola Scusa Mi faccio i cazzi tuoi Eri piccola No no Ero più grande Cioè Andavo a liceo Già Quindi ero Però non è comunque facile Non è comunque facile Eccetera Quindi È stato proprio Il primo film A cui avevo pensato Perché Il divorzio L'avevo visto rappresentato Per la prima volta In quel film Mi era rimasto molto in mente Perché l'avevo visto Tante volte Quindi è stato un po' Un Un conforto Poter ricordare Quel film Ricordare come L'avevano parlato Ricordare come era stato Affrontato il tema E quindi Lo ricordo in particolare Per questo Di City of Fire Comunque con un ricordo Nostalgico Però molto dolce Capito Non triste Quella nostalgia Dolce amara Ecco Però ci sono molto affezionata E ancora ogni tanto Lo rivedo E mi fa tanto sorridere Infatti poi E guardandolo da grande Cogli anche tutta Una serie di sfumature Che da ragazzina Magari non capivo Tutto il triangolo Tra lui L'ex moglie E l'altro E Pierce Brosnan Esatto È vero C'era Pierce Brosnan Là dentro Che faceva Tipo Il nuovo tizio Faceva l'altro Capito C'era il bellone Capito Lui era 007 E c'era tutti quegli Dispetti Che gli faceva lui Che gli aveva staccato La stella Della Mercedes Che gli aveva Gli aveva detto Che l'aveva trovata Che la Mercedes Serviva a compensare Qualcos'altro Vero Vero Che poi da grandi Ti rendi conto Che quel film Alla fine Non finisce neanche Cioè non ha L'happy ending Diciamo Ce l'ha a metà Ce l'ha a metà Cioè questo finale Un po' dolce amaro Perché comunque Per questo era Era un film Coraggioso Alla fine Perché era un film Per ragazzi Comunque era un film Per bambini Per ragazzi Eppure Aveva questo finale Dolce amaro E confermava Che i genitori A volte Si separano Si devono separare E ti diceva anche Che va bene così Esatto Era giusto Te lo faceva accettare Capito Non lo faceva Pesare Te lo faceva accettare Con comprensione Perché comunque Non la faceva Soprattutto nella seconda parte Non la faceva sembrare Una cosa così Una sciocchezza Però come dire Secondo me era molto educativo Molto formativo E poi proprio pensato Per essere visto Da bambini Ragazzi Che magari Affrontavano Quello stesso tipo Di situazione Quindi c'era La conferma Che loro due Erano comunque Separati Però i bambini Continuavano a vedere Il padre E poi a lui Davano un programma Tutto suo Dove lui Poi raccontava Spiegava Parlava con i bambini Eccetera Ragionandoci bene Adesso che l'hai tirato fuori Pensandoci Sono riusciti anche A fare una cosa Molto difficile Per questo tipo Di messaggio Cioè in questo caso C'era l'eroe Che è il personaggio Maschile Il padre Che fa di tutto Arriva addirittura A travestirsi Eccetera Eccetera Pur di stare con i figli E il rischio più grande È quello di far passare La madre per una stronza Cosa che invece Alla fine Non ti passa Il discorso Che la madre è una stronza Perché comunque Continua a rimanere Separata Da lui Assolutamente Cioè è vero È quello che dici tu Cioè ti fa accettare Il fatto che due persone Che stanno insieme Che si vogliono bene Non è detto Che devono stare insieme Per tutta la vita Ma non per questo Devono litigare All'inizio sì Però poi All'inizio del film Era un personaggio Come se fosse lei La cattiva Esatto Però dopo poco Già cominci a contestualizzare Le cose Cioè dopo Soprattutto se lo vedi da adulta Io adesso ti sto facendo Le riflessioni Che non avevo fatto Dalle prime volte Che le avevo visto Però da adulta Ti fa fare delle riflessioni Che tu all'inizio fai Madonna però Questa che rompi pale Poi però Quando ti fa vedere La vita di lei Il punto di vista di lei L'esasperazione di lei Effettivamente tu dici Caspita lui è un bambinone Effettivamente Non è che contribuisce Tanto alla famiglia Diciamo A sostenere la famiglia Non tanto in senso economico Sinceramente Proprio in senso di Presenza Di integrazione Di responsabilità Esatto Sembrava più un fratello Con i bambini No? E lui si responsabilizza Proprio attraverso Il personaggio Della tata Impara a cucinare Impara a prendersi cura Dei figli Impara a diventare Un vero papà A 360 gradi E non Il fratellone Proprio Attraverso Questa esperienza Facendo la tata Diciamo Quindi si responsabilizza In questo senso E intanto la mamma può Come dire Staccare un attimo Può respirare Può giustamente Avere anche Una vita sua È un aiuto Un compagno Che l'aiuta Sì 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 Esatto Quindi era un film Era un film molto bello Molto stratificato E adatto Però anche A dei ragazzi In cui anche I genitori Secondo me Potevano Avere una chiave Di lettura Loro Capito Per sentirsi E per l'epoca Sinceramente Era anche Abbastanza Avanti Perché comunque Sia parlare di divorzio Che parlarne in quei termini Che non colpevolizzare Nessuna delle due parti Esatto Era Era tanta roba Era tanta roba Sì è vero Ma molte volte Non ci pensiamo Pensiamo a questi film Degli anni 90 Un po' come Dei giocattoli Un po' Le commediole Eccetera Quando in realtà Avevano questi temi O comunque Davano questi messaggi Molto importanti Secondo te Ti rompo un attimo Sta cosa Visto che tu Parli molto di cinema Guardi di tutto Esami di tutto Il cinema Fa ancora Questo genere di cose Cioè Questo genere di storie Perché Loro lo sanno Qua in chat Io sono un cazzo di boomer Sono felice di esserlo Amo il cinema Agni 90 E ritengo Che non si fa più Non si raccontano più Le storie Come si raccontavano prima Cioè Prima c'era più coraggio C'era più voglia Di raccontare delle storie C'era più voglia Di usare C'era più voglia Di esagerare E uscirono fuori Dei film Che nel 2021 Una persona Dei 40 anni Una persona Più giovane Comunque Non sta Ma a parlare Delle ultime cose Stiamo parlando Di Ritorno al Futuro Miss It Out Fire Eccetera Li fanno ancora Sto genere di film Secondo te? Questa è una bella domanda Anche perché Stiamo parlando di Una Una categoria di film Specifici Nel senso che Comunque stiamo parlando Alla fine di film Per ragazzi E quindi E' lì Che dobbiamo vedere Se ancora li fanno Questi film Perché Per i film Per adulti Secondo me Hanno fatto anche Dei grandi passi In avanti In realtà Ma Questi film Dedicati appunto Ai ragazzi Forse Qualcuno Ci prova Diciamo Ancora Perché Comunque In alcuni Cercano di metterci Dei temi Interessanti Chi lo sa Sarebbe interessante Sentire Un ragazzino Di oggi O Un adolescente Di oggi Un domani Se Avrà Queste stesse Sensazioni Se sarà rimasto Legato allo stesso Modo Per lo stesso Motivo Se dirà le stesse cose Che stiamo dicendo noi Perché magari Noi oggi Li vediamo Già con degli occhi Da adulti E che ci siamo Già vissuti I nostri film Per ragazzi E quindi È facile Che Possiamo Cadere subito Nel dire Vabbè Però ai miei tempi Però ai miei tempi Io me lo so vissuto Che c'avevo un'altra età Per dire E oggi lo rivedo Lo contestualizzo E dico ancora Caspetta Era molto buono Come film Oggi Io qualcosa Trovo ancora Di Perché Perché cerco di mettermi Comunque Nei film Che non sono Più per il mio target Ormai Cerco di mettermi Nei panni Di un ragazzo giovane Una ragazza giovane Che può vedere Quel contenuto E quali insegnamenti Ne può trarre Il modo in cui Gli vengono detti Eccetera Secondo me Chi sta in testa Cercando di mettere La cura In questo tipo Di film È Una certa Un certo Un certo tipo Di produzione Disney Un certo tipo Di produzione Anche Marvel I film Marvel Alcuni che sono Quindi specificatamente Per ragazzi Alcuni sono molto buoni E Loro sono proprio Furbi Sono proprio intelligenti Sono proprio svegli Cioè Loro sanno veramente Vendere bene Un prodotto Sono molto schillati Sono molto preparati Non so se questi film Davvero rimarranno Però alcuni Secondo me Potrebbero segnare Il cuore Di alcuni ragazzi Oggi Ed essere un insegnamento Per loro Domani Disney Io vedo che loro Sono davvero indietro Per tante cose In realtà Sia Disney Che Marvel Per alcuni tipi Di rappresentazioni Sono molto indietro Vedo proprio Lo sforzo L'impegno Che cercano di mettere Nel Per esempio La produzione Dei film D'animazione Disney Ogni nuovo film Che fanno Io Ce ne sono ciucciati tutti Perché li devo fare tutti Ho notato Che comunque Cercano di parlare Di temi Anche Tosti Da raccontare A dei bambini Anche dolorosi Anche pesanti Sempre in un contesto Di un film D'animazione Se penso a Frozen Frozen 2 Per esempio Che ha parlato Del lutto Della morte Ai bambini Io ho visto Frozen 2 Ho detto Certo non è un film Per me Cioè io ho 34 anni Nel senso Lo vedo come un 34 anni Però Se lo devo analizzare Ovviamente Non lo vedo come Ah beh io ho 34 anni Per me è una mezza Una mezza stronzata Cioè no Ovviamente lo vedo Per il target A cui è destinato E ho fatto Mammazza questi Cioè È impegnativo Provare a parlare Della morte A dei bambini Del lutto Proprio della perdita Di un caro A dei bambini È molto coraggioso Da parte loro Per il tipo di film Di cinema Che fanno loro Questa cosa È molto coraggiosa Oppure L'ultimo film Che è uscito In canto Quello che adesso Ha vinto È Golden Globe A me è piaciuto A metà Perché poi Ha dei problemi Narrativi Sulla seconda parte Il finale Si perde un po' Però è comunque Un film che osa Che si permette Di parlare Di salute mentale Capito Che tu fai Ai miei tempi Però ste cose Non si facevano Non si facevano Ok Quindi c'è qualcuno Che ci sta Stanno provando Stanno continuando Qualcuno si impegna Insomma qualcuno Ci prova Poi magari Non gli riescono tutti Ovviamente È normale Che sia così Però Cioè Tutto il sottotesto Questo queer di Luca Che la gente Alcune persone Continuano a dirmi Ce l'hai visto solo te Non è così No 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 C'è È come se c'è Cazzo Ovviamente È un sottotesto Quindi non è il testo Del film Perché non si parla Però assolutamente C'è quella lettura C'è È una cosa Infatti È una cosa Che tante persone Della community LGBT Si sono sentite Molto toccate Da quel film L'hanno sentito Molto vicino Perché si sono Riconosciuti Nell'esperienza Di Luca e Alberto Anche se non è Esplicita Non c'è niente Ridichiarato Però c'è Tutta una Dinamica Di crescita Tra loro Alcuni termini Che vengono usati Un allontanamento Cioè Sembra proprio Il percorso Che è molto più simile A un percorso di vita Che capita di frequenza Alle persone Del mondo queer Che non alle persone Etero Capito E quindi Si sono riconosciuti Molto E il sottotesto Arriva alle persone Soprattutto alle persone Che sono coinvolte In quel sottotesto È facile Che le persone Magari etero Non ci hanno fatto caso Non ci hanno fatto caso Certo perché Non le ha mai riguardate In quel modo Però Chi invece Ha una sensibilità diversa Quella cosa La coglie E la riconosce Quindi nel senso Alcuni di questi film Ripeto Alcuni più riusciti Altri meno Cercano A loro modo Sempre in punta di piedi Perché comunque Disney Però cercano di Veicolare Dei messaggi Che Che siano Un po' più Coraggiosi Ecco Quindi Le cose interessanti Io le vedo Però Anche in passato Ci sono state Delle cose interessanti E Soprattutto perché Ci sono delle cose Così attuali Che vengono dagli anni 90 Ancora di più Hanno un valore Perché sono state Coraggiose In un decennio Che Alcune cose Magari Non Non erano neanche Immaginate Nell'anticamera del cervello Adesso magari C'è un po' più di Anche A livello globale Con i social Con Un'apertura mentale Diversa C'è un po' più di Coraggio Magari Ti viene Però Negli anni 90 Era Magari Ancora più Coraggioso Come Sì Mi ricordo Che proprio Mrs. Doubtfire Se ne parlava Con un film Molto strano Che non si capiva Inizialmente Anche perché Ai miei tempi Quando è uscito al cinema Io lo vivi al cinema Col cavolo di film L'unica cosa L'unica cosa che sentivi Era Lo speciale Chuck Con la signorina La voce di Chuck Che è sempre quella Statizia C'è fra 90 anni Ma c'è sempre la stessa voce E basta Il mensile di Chuck C'era E poi Vedevi i trailer In televisione E finiva lì Non se ne parlava più Quindi in un paese In una città come Catania In Sicilia Quando si vede il film Con Robbie Williams Che si traveste Non si capiva Che cazzo Che cazzo di film era Poi ovviamente Uscita al cinema Ok Allora l'hanno visto tutti Ok Adesso abbiamo capito Di che cosa parla Però mi ricordo Che all'epoca C'era sto dubbio Comunque Sono riuscito a farti fare La critica cinematografica Pure questa sera Adriano Scusami Non so perché Adriano è passato in studio A quest'ora E sta lasciando Tutta una serie Di foto Ops Vabbè Niente Mi sta rimproverando Mi sta rimproverando Che ho lasciato Il climatizzatore acceso Però invece di dire Hai lasciato Il climatizzatore acceso A modi del terrorismo Psicologico Manda le foto Capito Cioè Andiamo avanti Scusami Meraviglioso Eh sì Magari Fosse solo questo Dicevo Eh Siamo sono riuscito A farti fare La critica cinematografica Pure questa sera È fatto benissimo Grazie Complimenti Eh Andiamo avanti Perché io Se non metermi Ma io non ti fermo Non so se tu hai notato Io ti lascio parlare Io non ti fermerò mai Andiamo avanti Peggio per te Allora Allora Il prossimo Invece Che ho messo Basta Così film Ragazzini Adesso è un film Bello un po' più Un po' più cattivo Questo è il quinto Mi pare che ci devi dire Giusto? Il quinto Ce ne detti quattro Se non sbaglio La sirenetta La sirenetta Aspetta ricordami Ritorno al futuro E Mrs. Doubtfire Andiamo al quinto Andiamo al quinto Allora Il quinto invece È un film horror Però io sono un po' Cioè L'horror è un genere Che mi piace molto L'horror e il thriller Sono i miei generi preferiti In realtà Però Diciamo che Sono un po' Stronza con gli horror Nel senso che Soltanto un certo tipo di horror Per me Si può chiamare horror E vale la pena vederlo Nel mio gusto personale Cioè L'horror ovviamente C'è un fottio di sottogeneri E di quel fottio di sottogeneri Soltanto una tipologia A me inquieta Fa paura E attrae molto E affascina E sono gli horror Psicologici Fondamentalmente Quindi quelli che Ti fanno orrore Non tanto facendoti Vedere qualcosa Ma facendoti Più che altro Immaginare a te Gli horror d'atmosfera Quelli là Quelli là Mi terrorizzano Quindi tu mi puoi far vedere Tutti i film che vuoi Con le ossessioni demoniache Io non batto ciglio Dormo su Veramente 18 guanciali Tutti i film slasher Splatter Del mondo E io al massimo faccio Che schifo Cioè Non mi tocca Proprio dormo Come un sasso Proprio zero orrore Per me Quelli proprio zero Ma quelli d'atmosfera E quelli psicologici Che Meno ti fanno vedere E più Te la fai sotto Quelli veramente Mi inquietano Quelli soprattutto Che vanno a toccare Proprio Degli argomenti Dei temi Dei macro temi Degli argomenti Che ti creano Quel senso di orrore Interiore Proprio Che ti rimane dentro Ecco Io becco Quelli Sono felice Però sono anche Fottuta Perché poi magari Non dormo per 10 giorni Perché sto col pensiero Finso a quella cosa lì Quindi Però sono i più belli Io per gli horror La penso esattamente come te Sono quelli più belli Cioè Perché almeno Ti lasciano qualcosa Invece di Ormai Il jumpscare Non fa Cioè Basta Hanno rotto il cazzo Io li conto Alcina 1 2 3 Pam Ormai è così Voglio dire Poi pure salta Sua sedia Con jumpscare Però il fatto Che tu salti Sua sedia Con jumpscare Non è perché È l'orrore La paura Che ti ha spaventato È perché Hai sentito Un rumore forte Esatto E hai visto un'immagine veloce E quindi fai Oddio Perché il montatore è stronzo Anche io se caccio lo strillo Capito Esatto Ti vengo dietro Dietro E fai Tu salti per aria Quindi Uguale Però non è che poi Me lo sogno la notte Capito No Quindi Il primo horror Che io ricordo Il primo ragazzi Ce ne saranno una serie No no Il primo Ah il primo che ricordi Non ho messo una serie di horror Il primo che Io ho scoperto Che esistevano anche Questi horror Quindi il primo Che mi ha veramente Che ho detto proprio Mamma mia Allora sì Perché io fino a quel momento Pensavo Ma a me gli horror Non mi piacciono Poi ho visto questo Ho detto Eh no Allora sì che mi piacciono Gli horror Adesso ho capito Però questi E fu The others Madonna Nero sicuro Perché ero avuto La stessa impressione Uguale Io The others Ero terrorizzato Al cinema Mamma mia Terrorizzato E sono uscito dal cinema Felice Cioè i miei amici Mi dicevano Ma ti stavi cacando sotto Sì Ed ero Felicissimo Felicissimo Vai Era quello il bello The others È che è un film Del 2001 Quindi io 13 anni Non lo so Io non so Contare Io c'avevo 21 Diciamo 2001 Ah sì Un altro Matematica E suona pippa Adesso ce lo dicono 97 98 89 2002 C'ho 14 anni 14 anni Ok Quindi Appena adolescente Proprio E ho visto So the others E Non facevo Di mia madre Un genitore Apprensione Amorevole Benvenuti Sto horror Brava Ti ci ha portato Do madre Mia madre Mi ha fatto vedere Questo film No però poi Alla fine Io in realtà Mi fui molto grata Perché ho scoperto Questo genere Che in questo modo Declinato l'horror Mi piaceva Però appunto Mi aveva Angosciato Per tanto tempo Ancora se ci ripenso Mi angoscia Però anche con Un senso di Di emozione Proprio E' un film che Veramente a distanza Di tanti 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 anni Ancora mi Mi emoziona Di pensare A quanto fu Incredibile Perché poi aveva Quel finale lì Che Io non so se c'erano Dei film Prima che avevano A cui era venuto in mente Di fare quel plot twist Sinceramente Era uscito Mi dovrebbe dire Di no Però Non vorrei dire Una cavolata Perché non conosco Tutta la filmografia Precedente Però mi viene da dire Che tipo E' stato il capostipite Di quel tipo di plot twist Perché poi dopo L'hanno evitato in molti C'era il sesto senso Molto simile C'era il sesto senso Che non mi ricordo Se era poco prima O poco dopo Comunque Sono usciti Tutte e due In quel periodo Quindi era Prima Il sesto senso Era del 99 Quindi era sicuramente prima Era L'inizio Più o meno Sì sì Di quella roba Però io non li avevo Comunque associati Perché The Others aveva Un contesto E una regia Che erano talmente distanti Dal sesto senso Che mi sembravano Comunque due lavori Completamente diversi E mi ricordo che Amenabar aveva fatto Anche la colonna sonora Del film Non era soltanto Il regista Cioè Una colonna sonora Che se tu la senti Adesso Anche isolata Mette la pelle d'oca E non è Che mette la pelle d'oca Perché usa E sfrutta Quei classici suoni Quel classico sonoro Che noi immaginiamo Dei film horror No Se pensiamo Fammi venire in mente Una tipica musica Da film horror C'abbiamo un immaginario Specifico Quindi magari Dei suoni Bassi Dei suoni Prolungati Dei suoni Gravi Invece La colonna sonora Di The Others Non ha Niente Di tutto quello Niente E ha questo gusto Antico proprio Perché il film È antico Come è girato Sembra davvero Un film Come se Veramente Fosse stato girato In quell'epoca Ti dà l'idea Che sia polveroso Ti dà proprio Quell'idea lì È Pazzesco Pazzesco E quel plot twist Là Io L'orrore Nel cuore Pensai Cazzo È geniale Questa cosa Non ci avrei mai Oggi magari Se Tu sei Un ragazzo Una ragazza Che lo vede oggi No Più di vent'anni Dalla sua Messa Della sua uscita Fai Vabbè Sei abituato Non è così originale Questo finale Però il discorso È che Quel tipo di finale Là È stato preso Da lì Da lì E dal sesto senso Sono stati quelli I primi film Che ti hanno Che hanno Innovato Su questa cosa Che gli è venuta Immense Questa cosa Perciò oggi Se lo vedi Indietro Può sembrarti Una cosa Tipo vabbè L'ho già visto 50 volte Su tipo di finale Però in realtà Allora era una cosa Tipo Sconvolgente Questo finale Era Pazzesco Assurdo E ti inganna Veramente Per tutto il tempo E fino a che Poi non ti fa Proprio scorrere L'orrore degli orrori Perché tu già Hai paura Per tutto il tempo No Perché comunque La classica storia Il classico degli horror La casa di fantasmi Esatto Cioè quindi proprio Uno dei classici Tra i classici Degli horror E quindi Tu già stai Angosciato Tutto il tempo Di queste presenze E poi alla fine Però ti accorgi Che l'orrore vero Non era quello Che hai visto Fino a quel momento Cioè È una cosa Proprio Clamorosa Ed era Pazzesco Poi Nicole Kidman Lei faceva la protagonista È stata pazzesca Ma anche i bambini Cioè sono I bambini Ma cioè Quella ragazzina È ad una bravura Cioè è una cosa Impressionante Guarda veramente Ed era un film Che tu non vedevi niente Quel film Non ti faceva vedere Niente di horror Tu non vedevi Niente Letteralmente niente Eppure A massimo Qualche porta Che si abriva E si chiudeva sola Fine Sì Oppure C'era una scena Una delle scene Più inquietanti Più belle In assoluto del film Secondo me È la scena in cui Lei C'è Nicole Kidman Che sta ricamando In casa E sente i rumori Da sopra E si spazientisce Perché Pensa che sia La domestica sorda Che per pulire Avevano una domestica sorda Allora per pulire Non si rende conto Che fa rumore Spostando i mobili Lei era una donna Molto rigida Molto austera Molto autoritaria Quindi si spazientisce Pensando che è lei Alza lo sguardo Guarda fuori dalla finestra E vede che i domestici Sono tutti fuori E i bambini Non ci stanno Non sono là Quindi C'è proprio l'inquadratura Che tipo si sposta Verso l'alto Che inquadra il soffitto E tu senti un suono Che è solo tipo Di archio Non ricordo cosa E ti sale il gelo Insieme a Nicole Kidman Madonna raga Cioè solo a dirlo Mi vengono i brividi Quel film È impressionante Una maestria Dell'orrore Proprio E la cosa bella La cosa che Io Quello che mi ricordo Della visione Di questo film Al cinema È che Non mi capita mai Ero rannicchiato Letteralmente Sulla poltrona Perché mi dava Proprio l'ansia E la cosa Che mi piaceva Tantissimo È che mi faceva paura E quindi mi piaceva Perché così A meno per me Funziona così È che tutto ciò Accadeva di giorno Quando nella maggior parte Dei film 90% Dei film horror Questo tipo di scene Quella che ha descritto Violetta adesso Sono sempre De notte Sono sempre In una situazione Dove c'è buio Già il buio Ti fa paura di per sé Oppure c'è poca luce O il personaggio È in un posto Che non conosce Eccetera Questi A me la barra È riuscito a fare Questa cosa A casa De questa tizia In pieno giorno E le scene Che ti davano Più tensione Non si svolgevano Di notte Si svolgevano Di giorno In pieno giorno Questa era una cosa Che mi ricordo Quando lo vedi Mi stabilizzava Perché Non era il momento Dove me le aspettavo Non era quello Che L'horror O le ghost story Che avevo visto Fino a quel momento Mi avevano insegnato Quindi è stato proprio Un cambiare totalmente Registro Cambiare totalmente Le regole E a me la barra Ha letteralmente Buttato il cazzo Sul tavolo Ha detto Io so bravo E ce la faccio A farti cacare sotto Senza usare I giochini Dell'horror Infatti In questo film In particolare Japskare Ce n'è uno solo Uno solo C'è Ma ce n'è uno Che è quando poi C'è la seduta spiritica No? Alla fine Verso il finale Che si vede la faccia Della vecchia Eccetera eccetera Ma Quell'unico Che c'è Che fra l'altro Ragazzi Io C'ho un giochino Divertente Qui Su questo canale Devi sapere Che se Si mettono 100 bit Sul canale Sai che ci sono i bit No? Questi Possono dare Questa moneta virtuale Di twitch Eccetera Ok Se si mettono 100 bit In chat A caso Completamente a caso Non succede Su questa schermata Quindi non lo fate Succede nella schermata Normale No in questa Dove si è in due Totalmente a caso Parte un japskare Totalmente a caso Ah ok Ne ho selezionati Sette Perché ovviamente Vanno a tutto schermo E parte l'audio a stecca Ne ho selezionati i sette E ovviamente Fra questi sette C'è quello di The Others Perché è uno dei Meggiori usciti Per me Nella storia del cinema Certo E questo film È assolutamente micidiale Io lo rivedo Tuttora E ogni volta Che nel mio lavoro Nel montaggio Mi ritrovo A dover Mettere in piedi Un qualcosa Che Non ti dico Possesse Debba essere horror Però può avere Quel tipo di atmosfera Quello è il film A cui cerco di fare Fai riferimento Perché assolutamente Perché principalmente È un film Che ti fa cagare sotto Con la luce Di giorno Ed è una cosa Che Sì 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 Infatti Capolavoro assoluto The Others Mi dico L'ho inserito Bellissimo Bellissimo Andiamo avanti Wow Andiamo avanti Allora Poi Ho messo Un film Cambiamo Completamente Mood Di nuovo E ho messo Un film Stavo parlando Prima Appunto Di Di cinecomic Ce n'è uno Che Ha segnato Che per me È il cinecomic Ok Cioè è stato Mi ha segnato Proprio Legato a un'esperienza Quindi mi ha segnato Ed è Il primo Spider-Man Di Sam Raimi Ok Proprio Il primissimo So che C'era già stato Insomma Qualche altro Film Sui supereroi Prima Eccetera Però Questo qui Ha un significato Molto speciale Per me Perché Praticamente L'ho visto In un contesto Particolare Avevo 15 anni Quando l'ho visto Sì Perché era Il quarto Ginnasio Quindi era il primo Anno C'avevo 15 anni E Mi ricordo Che andai A vederlo Dopo scuola A questo nuovo Multisala Di Ostia Perché Quello piccolo Non c'era più E con una compagna Di classe Eravamo tipo Solo io e lei Perché sai Dopo scuola Saranno state Tipo lo spettacolo Delle due Le tre Del pomeriggio Quindi era una cosa Molto presto C'eravamo solo io e lei Poi non era come adesso Capito Che esce Spider-Man Esce Salare Esatto All'epoca Era la cosa Per esperimento Tipo Esatto Sì capito All'epoca Magari sarebbe visto Manco nessuno C'eravamo Il suo Spider-Man E io mi ricordo Che era un periodo Molto Bruttino Per me Sai l'adolescenza Non per tutti È una passeggiata È proprio Una passeggiata Sì sì Per molti Non lo è Infatti era un periodo Spiacevole C'erano tante cose Che in quel momento Non andavano Ero molto triste Non Cioè Sapevo quale volevo Io avevo bene in testa Quale volevo Che fosse la mia strada Però Avevo tanti impedimenti Per Percorrerla Io Capirai A 15 anni Già ero Ossessionata dal cinema Io dovevo Fa quello Dovevo raccontare storie Dovevo Qualsiasi ruolo Io dovevo Entrare in quel mondo Là Ero proprio Lì Però C'erano tante cose Che mi impedivano Di farlo Di iniziare Questo percorso E poi Odiavo La scuola Che avevo scelto Ero al primo anno Ero stata Rimandata In due materie No come si dice Rimandata Debito Debito Formativo Debito Grazie Cioè avevo il debito In due materie Perché era proprio Un liceo Quello classico Che ho fatto Era un liceo Che io non volevo fare Ci sono andata per forza Per tutta una serie di motivi Quindi ero triste Anche perché sapevo Che i miei sarebbero Stati arrabbiati Perché dovevo dire loro Era l'ultimo Ecco cosa Era l'ultimo giorno di scuola Ok Quando io sono andata Perché infatti è uscito in estate Sì Era l'ultimo giorno di scuola E avevo saputo appunto Che avevo il debito Me l'aspettavo Però appunto Era proprio in un mood Adolescenziale Brutto Triste La vita fa schifo Ce l'hanno tutti con me La vita fa schifo Ce l'hanno tutti con me Ero proprio super triste E Ho visto questo film Ed è stata Quando uno dice La banale Ormai banale La magia del cinema Eppure io per quelle due ore Proprio sono tipo Rinata Cioè ci ho avuto proprio Un'energia Dentro Una convenzione Io ho visto quel film Andava tutto male E io ho pensato Questo è quello Che voglio fare La continua conferma Continua Devo così Mi avevo emozionato Così tanto Era stata proprio una cosa Mi aveva Estraniato completamente Dalla mia vita Per due ore E io veramente pensavo Che cosa ci faccio Qui In questa In questa ostia Con pochi abitati Capito Tipo mezzo paesino Diciamo Anche se in Roma Però tipo mezzo paesino In una scuola Che non mi piace Facendo cose che non mi piace Sapendo che questa cosa Non la potrò fare Cioè Tutte frustrazioni Vedere quel film Era tipo Che ci faccio io qui Ma anche un Un giorno io Ce la farò Un giorno Questo sogno Questo sogno Lo inseguirò E' questo che fa il cinema Anche Cioè quando dici Appassioni Lo vedi Lo consumi Eccetera Alimenta sempre più E quindi Sei uscita da lì Completamente Sono uscita da lì Che volevo Uscire dalla mia vita E tipo Vivere Dentro al Al film di Spider Ne ho capito E Vabbè La persona che stava con me Non Vabbè Era una persona Cioè Interessi diversi Cose diverse Quindi per lei Era stata una nottura Di coglioni E basta Io per me invece Era stata Poi l'avevo pure scelto lei Per me invece Era stata Un'ennesima conferma Cioè Mi aveva proprio Ridato L'energia Per affrontare Gli anni successivi Che avrei dovuto affrontare Di cose E per Non perdere La Il percorso La fisiologia La sensazione La mia personale Retta via Capito Per restare salda Su quello Perché c'erano tante cose In quel periodo Che mi scoraggiavano Da quel punto di vista E poi ce ne sarebbero state Tante altre Ancora non lo sapevo Però Ovviamente Però intanto Quella visione Quelle due ore Ti hanno aiutato Moltissimo Moltissimo Ricordo proprio Ancora Vivi Quelle emozioni Che mi diede Quel film E tuttora infatti Sono molto legata Affettivamente Al Spider-Man Di Sam Raimi Poi al Spider-Man E a tutti quelli Che sono venuti dopo Eccetera Bello Per il primo Il primo Che poi è uscito In un periodo Molto particolare Perché è stato L'anno Dell'11 settembre Cioè è uscito L'anno dopo L'11 settembre Infatti c'era Il trailer Io me lo ricordo Lo aspettavo dal trailer Perché Sì C'erano stati Altri cinecomic Prima Ma niente di Particolarmente Incredibile Cinecomic Che erano Tipo film De serie Z Da manco De serie B Era proprio Quel filmetto Che nessuno voleva A nessuno Interessava Invece Spider-Man Di Raimi Usciva un pochino Con Vi dimostriamo Che i cinecomic Non sono solo Cagate All'epoca Era questa l'idea E c'era questo trailer Con l'elicottero Che si incastra In mezzo alle torri gemelle Che poi Venne ovviamente Eliminato Sparì totalmente Subito dopo L'11 settembre E io mi ricordo Che quando uscì il film A parte Un amore folle Per quella roba Io di Spider-Man Non sapevo un cazzo Sapevo il minimo indispensabile Che poteva sapere Un ragazzo Della mia età All'epoca Non avevo mai letto I fumetti Quindi conoscevo Un po' i cartoni animati Un po' il personaggio Ma la cosa Che a me Mi colpì maggiormente Perché la storia Delle origini Di Spider-Man Un po' la conoscevo Fu la realizzazione tecnica La realizzazione Di San Raimi Che ovviamente Per l'epoca Era un qualcosa Di assolutamente Fu di testa Perché D'impatto così grosso Per quanto riguarda I supereroi E quel tipo di film C'era stato Solo Superman Di Donner Prima Perché mi ricordo Che lo slogan Di Superman Riuscirete a credere Che un uomo Può volare Una cosa del genere E effettivamente Tecnicamente Superman era pazzesco E poi Che fece un salto enorme In quell'ambiente Fu proprio Spider-Man Di Raimi Ed era Impressionante Veramente Vedere quel film È stato impressionante E la cosa Che mi piaceva tantissimo Era il fatto Che finalmente Erano riusciti Pure a creare Una storia Altrettanto Interessante Perché io andavo a vedere Questi film Solo per gli effetti speciali Erano gli anni In cui si facevano Effetti speciali In continuazione Quindi se si andava Al cinema Si andava solo Per vedere L'effettone speciale Pazzesco Perché in televisione Non lo vedevi Perché c'erano I film più vecchi E la cosa Che mi piace Fu proprio quella Cazzo Non solo C'ha degli effetti speciali Fichissimi Perché adesso Lo rivedi Ci sono 2000 magagne Vabbè Vedi tutto Ci mancherebbe Passati vent'anni Però per l'epoca Era una roba Pazzesca E che aveva Pure una storia Fica Era questa La cosa Mazzasana La storia Era molto Era molto Coinvolgente Era Comunque c'era Tutto il dramma Della morte Dello zio Ben Che era rappresentato In un modo Davvero Importante Nella vita Di Spiderman Cioè Quella è comunque Una morte Che non era Solo un lutto E basta Cioè Aveva tanti significati Quella aveva Un significato Anche nel suo Diventare Un vero eroe Cioè Lui capisce Che cosa significa Essere un eroe Praticamente Poco dopo quel momento Perché Lui fino a quel momento Aveva i grandi poteri Ma non si era reso conto Delle grandi responsabilità Nonostante Gli fosse stato detto Ha dovuto fare esperienza Di quella cosa E poi Allora Ha messo tutto In prospettiva E quindi Era Era davvero Qualcosa Che spaccava A metà O forse Univa Le due parti Del supereroe Che lui poi Doveva diventare Per essere Un supereroe Completo Però Era molto importante Quella scena Era molto intensa È diventata Mitica Quella frase Cioè È diventata Che poi Gianni mi ha spiegato Che viene dal fumetto Quella frase Io ero convinto Che la frase Era del film Invece Mi ha detto Se non ricordo male Adesso Magari Ce lo conferma Però Stai in chat Però Mi pare Che da Grande proteide E un grande Responsabilità Avviene da Uno degli albocumetti Facile Insomma Ci sta Però Diciamo Che era Magari Già mitica Per Quella nicchia Di persone Che seguiva Il fumetto Certo Però poi È diventata Mainstream A livelli Cioè Chiunque Anche chi Non aveva idea Di che cavolo Fosse Spider-Man Però Quella scena Ma mi ricordo Che una volta Me la disse Mia madre Stava Stava Cioè Mia madre Che Quando mi disse Questa cosa Ho detto Ma che cazzo Hai visto Spider-Man Tanti anni Dopo Che era già Passato in tv 20.000 volte Mi disse Era proprio Una cosa Che rimaneva Perché non era Solo una frase Così Era proprio Legata a Tutto quello Che era Stato messo In scena Da loro E poi C'era Uno dei migliori Cattivi Da storia Dei cinecomic Il goblin Di Willem De Faux Che è diventato Un'icona Totale Tanto che In No Way Home È ancora lui Il cattivo Con la C Maiuscola Capito È lui Che viene dato Quest'onere Quest'onore Giustamente Perché è stato Mitico Iconico È stato Incredibile E quindi È stato Il miglior Tutti i film Che sono avvenuti dopo C'erano avuto Tutta una serie Dei cattivi Che non sono mai Stati alla sua altezza Sono d'accordo Che era fichissimo Non era comunque Il goblin Di De Faux Quindi è stato È stato proprio Un film Incredibile E poi sì Vedere al cinema Quelle scene In cui lui Saltava Da un Grattacielo All'altro Era una roba Mai vista Mai vista Ti emozionava Ti dava una vertigine Mentre lo guardavi Era vero Non percepivi Ripeto Adesso lo vedi Lo capi Però all'epoca Mi ricordo Che proprio Non percepivi L'effetto speciale Cioè per me Al cinema Idealmente Che all'epoca Non avevo idea Di come si faceva il cinema Idealmente Poteva anche essere Che avevano preso uno E l'avevano lanciato Cioè Avevano trovato il modo Avevano trovato il modo Di farlo ondulare Da qualche parte Cioè c'erano delle cose Ovviamente Ero convinto Che erano degli effetti speciali Però c'erano delle cose Dei momenti In cui dicevano Ma ci hanno messo una rete sotto Come cazzo hanno fatto A non far ammazzare Sto tipo Perché era bellissimo Era vero E questa è la cosa La cosa più bella Di quel film Cioè per me E che era proprio vero Intanto stiamo toccando Territorio di Gianni Lui si arrabbierà tantissimo Magari se diciamo Delle inesattezze Abbi pazienza Noi siamo solo amanti Abbiamo vietà Siamo solo amanti Di quel film E basta Perché nonostante Quelle musiche Di Danny Elfman Che erano Grande Danny Elfman Io L'avrò ascoltate Fino a farmi sanguinare Le orecchie Veramente Cioè la colonna musicale Di quel film È qualcosa di incredibile È incredibile Infatti ho amato Che l'abbiamo ripresa Da In No Way Home Quando ho risentito le note Mi sono venuti I driviti Ma in No Way Home Hanno ripreso anche le altre Si sentono poco Quando arriva Electro Si sente il tema Di Di The Amazing Spider Però per me capito Cioè in confronto Non mi aveva dato Lo stesso trevito Quando ho risentito Le note di Danny Elfman Del primo È lì che proprio Ho emozionato di brutto Che dicevi scusa? No no C'era C'era Gianni Ah l'unica cosa Che non mi ha fatto impazzire Di quel film A me non piace È Kirsten Dunst Come cazzo si chiama La Kirsten Dunst Sì Kirsten Dunst L'unica Bellissimo Il bacio a testa sotto Quella scena Anche quello iconico Cioè quella è diventata mitica Il bacio a testa sotto Ha fatto la storia Cioè veramente Quel bacio lì È veramente Credo che sia uno Dei baci cinematografici Più belli Che abbia mai visto Bellissimo Tutto Era tutto perfetto Lei La pioggia Lui a testa sotto Solo un pezzo Delle là Tutto Era tutto perfetto Ma lei però Mi sta sui coglioni Ma quella è una cosa mia Perché Ovviamente All'epoca Avevano curato Totalmente tante cose E comunque C'era un'idea diversa Cioè Erano pochi film Che scrivevano Dei bei personaggi femminili E sicuramente Kirsten Dunst Cioè Io guardavo quel film E mi identificavo In lui Non in lei Esatto Lei per me era un accessorio Capito Esatto Non mi piaceva Come era scritta lei Ovviamente Perché era Un classico Scritto Sì Poi lei Secondo me Non è neanche Non ha neanche Le corde giuste Per fare Quel tipo Di ruolo Lei io Ultimamente L'ho vista Nel potere Del cane Non so se l'hai visto No non l'ho vista Ancora Se ti capita Recuperalo Perché è veramente Un filmone Non so se ti piace Jane Campion Vabbè Lei piace da morire Quindi Dove vederlo È veramente È veramente Pazzesco E lei C'è Io Non ho mai Considerato Kirsten Dunst Un'attrice Memorabile Sinceramente Esatto Eppure Se tu la vedi In questo film Pensi Cazzo Mi sa che potrebbe Prendere una candidatura Agli Oscar Perché Ma sai qual è il fatto Che Jane Campion L'ha cassata giusta Cioè Jane Campion È uno di quei registi Che Identifica Nell'attore Quali sono Quelle corde Che quell'attore Può tirare fuori Magari quell'attore Sa fare solo due cose E poi Il resto È un cane Magari Però Se ti serve Per quelle due cose Tu sai Che lo devi andare A prendere E Kirsten Dunst C'ha questa Malinconia Questa vulnerabilità Che Come attrice Come interpretazione Che in quel ruolo È Ti fa commuovere E io non ci potevo Credere Infatti Quanto non Perché Non ho mai amato C'è anche Alba Noella Che dice Anche in intervista Col vampiro Però fu davvero bravina Sì ma lì era piccola Quindi è un'altra roba Lì è proprio una bambina Un altro mondo È vero È vero Era stata molto bravina Però nel senso Lì era una bambina La prendo in considerazione Fino a un certo punto La considero più Nella sua età matura Come attrice No Lì magari erano Anche dinamiche diverse Però sì E Bene Quindi sì È tirato fuori Il tuo cinecomic Perché ci stava Però è tirato fuori Un signor cinecomic Quindi andiamo avanti Siamo al film Numero sette Sette credo Sì credo di sì Sette E allora Allora dunque Un altro Cambiamo completamente genere Questa volta è una commedia Alcuni la definiscono Chick flick Però in realtà È un finto chick flick Perché apparentemente lo è Però in realtà È un film Veramente molto figo Scusa aiutami nella mia ignoranza Che cazzo vuol dire chick flick? Il chick flick È tipo Di solito viene utilizzato Come un dispregiativo Sono quei film Destinati a un pubblico femminile Quindi film magari frivoli Film leggeri Anche Non per forza Commedie sentimentali Però anche volendo Però diciamo che è un termine Un po' dispregiativo Giusto per capire Tipo quello con Jennifer Lopez The Wedding Planner Può essere chick flick Per dire Quello con Jennifer Lopez È Matthew McConaughey Non ho visto Musso Questo ne manca Ma io non sono una grande amante Dei commedie sentimentali Dei commedie di merda No io quello l'ho visto È Jennifer Lopez Che fa la Wedding Planner È praticamente Che non ha Non vuole Sì comunque È una commedia romana Sì sì Non vuole un uomo Ne incontra uno Di cui si innamora Ed è L'uomo Di cui deve organizzare Il prossimo Il prossimo matrimonio E quindi c'è sta roba Potrebbe essere Un chick flick Comunque sì È tipo quel film là Ok Questo qui è un film Molto intelligente Invece È veramente brillante E mascherato da chick flick Perché un po' ironizza Anche su questo aspetto Sul fatto che È un termine che appunto È usato molto spesso In senso dispregiativo Anche perché È un certo tipo di cinema Di argomenti Di solito I film per le femmine Sono sempre considerati Robetta Robaccia Diciamo Invece Magari I film Demenziali Che però Sono destinati A un pubblico Maschile Tipo i vari American Pie Per dire eccetera eccetera Sono demenziali Però so fighi Capito Perché so fighi Maschi Quindi so fighi La stessa cosa Al femminile Invece viene considerata Robetta Io ti dico Io adoro Sex and the City Sì No Anch'io Sto guardando anche Just like that Ovviamente Ovviamente Che me ha perdo È sempre Ovviamente Lo sto guardando Cioè Tutti mi dicono Ma quali serie tv guardi Ragazzi Io sto guardando It's just like that E basta Tutto il resto Me ne frega un cazzo Dice ma come Vikings No No Io voglio Quello A me piace Che mi devo dire Quindi dai Quindi Si tratta di Mean Girls Non l'ho mai visto Che sicuramente lo conosco Lo conosco ma non l'ho mai visto So che film è Ma non l'ho mai visto Questo è il mio potenzio Veditelo Perché è un film Veramente molto Molto figo Tra l'altro dietro C'è anche Tina Fey Che è un artista Una comica Brillante Lei fa anche un ruolo Nel film Però mi sembra Che lei sia anche In produzione Non so Insomma C'è il suo zampino Forse anche in sceneggiatura Eccetera Ed è apparentemente Un teen movie Cheek flick Perché appunto È nel mondo Delle ragazze Ed è Il mondo Dell'adolescenza Perché c'è questo gruppo Di ragazze Sono al liceo C'è l'ultima Arrivata Che viene presa Di mira Inizialmente Cioè viene presa Di mira Dal gruppo Delle Delle api Regine Diciamo Delle queen Della situazione Di quelle fighe Di cui c'è una In effetti Che è un'ape regina E poi ci sono le sue schiavette Le schiavette Esatto Immaginavo Classico Impostazione Classica Come te la puoi immaginare Come hanno fatto Milioni di altri film E lei viene presa Di mira Però Per farla diventare Come loro Perché Loro la prendono Anzi La La per regina Diciamo che si chiama Regina George Per l'appunto La prende di mira Non per Bullizzarla Ma per farla diventare Come lei Perché la considera Tipo un caso disperato Un caso umano Su cui vuole lavorare Perché lei Ha fatto È arrivata in quella scuola Perché ha fatto Per tanti anni La scuola A casa E quindi È un po' Disadattata Non è mai stata In una scuola È la sua prima volta A scuola Ed è già al liceo E quindi Avendo sempre fatto L'homeschooling È un po' Non conosce Tutte le dinamiche Scolastiche Dei teenager E quindi La prende un po' Come è E Però Ora A prescindere da tutto questo Che poi ci sono tutte Le varie situazioni Le litigate Gli amoretti Litigi Le cose In realtà Se tu lo vedi È un film Molto figo Molto stratificato Molto intelligente Perché è uno dei primi film Che parla di Alleanza Femminile Ed è E della liberazione Della liberazione Dai meccanismi Patriarcali Già a quell'età Quindi ti insegna Quanto è antipatico Che le ragazze Si chiamino tra loro Puttana Troia Queste cose qua Ti insegna A proprio Invece che a farsi La guerra Tra chi è la più figa Tra chi conquista Il ragazzo Chi si tiene quello Chi si tiene quell'altro Invece a sfogare La propria frustrazione La propria rabbia In altri modi E invece A creare Delle alleanze Perché poi Un certo tipo di società Che tiene le ragazze Separate E le mette le une Contro le altre E poi quindi Le indebolisce E le rende superficiali E invece È un film Proprio che ti ricorda Ti insegna Il contrario Cioè Ti insegna il contrario Ti insegna quanto è importante Quanto è bella La sorellanza Eccetera Ma rimanendo Di un cinismo Che è Esilarante Cioè In questo film Non è mai pietista Non è mai patetico Non è mai compassionevole Non è mai Tutto rose e fiori Tutto amore e quali Non c'è quel tipo Di happy ending È super cinico Però ti fa passare Comunque dei messaggi Molto fichi Soprattutto per l'epoca Perché Mean Girls Se non sbaglio È dei primi Del 2000 È vecchio otto Sì Io ne ho sentito Parlare spesso Però Come dicevi tu Purtroppo Sempre come Un filmetto così È del 2004 Esatto Non ho mai avuto La curiosità di vederlo Però per come Me ne stai parlando tu Oltre che essere Un film Importante Per Diciamo Per una formazione Femminile Credo che sia un film Che devono vedere Pure i maschietti Cioè che sarebbe Importante far vedere Ai maschietti Più che altro Sì 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 Certo anche Assolutamente Perché Infatti Nel senso Secondo me I ragazzi Ovviamente Nascendo E crescendo In un ambiente Che gli dice Non ti guardai Filmi da femmine Che so cazzate Guardati film da maschi Ovviamente Danno per scontato Che è vero No Però Secondo me Così come Noi ragazzi A volte Non sempre Magari Ci divertiamo A guardare Certi film Che sono pensati Per i ragazzi Secondo me Anche i ragazzi Si divertirebbero Tantissimo Se superassero Questo pregiudizio E guardassero Anche i film Per ragazzi Ma anche solo Per una questione Di curiosità Per vedere Come è rappresentato Il mondo Delle ragazze A volte In alcuni contesti Anche solo Per fosse Una cultura Diciamo No ti ripeto A me Mi hanno sempre Parlato in generale Come una minchiata Non un film Per ragazze Ma una minchiata Per questo Non mi ci sono mai Avvicinato Stessa cosa Che mi dicevano Paradossalmente In maniera stupida Sex and the city Poi Il primo anno Che sono venuto a Roma Una ragazza Che ho conosciuto Lì a scuola di cinema Me ne parlò Come tu Mi stai parlando I main girls Quindi me ne parlò In maniera Completamente diversa Anzi mi disse Mi ricordo una volta Si parlava No di fidanzato Fidanzata Di coppia C'era Mi disse Tu vuoi capire qualcosa Delle donne Guarda Sex and the city E poi mi fece Tutto un discorso Su Sex and the city E mi fece venire Quella curiosità Di andarla a vedere Ed effettivamente Mi è piaciuto Cioè poi mi sono visto Tipo tutte le stagioni Di fila Quando ho potuto E quindi Cioè mi è da dire Che come Te lo presentano Tra virgolette Poi mi è capitato Di vedere un trailer E effettivamente La distribuzione italiana Non è che ci aiuta Tanto A farci cambiare idea Cioè proprio Come è stato promosso A meno per quello Che ho visto Come è stato promosso Sembra proprio un film Stupido Non per ragazze Stupido Che è diverso Sì sì Un film magari Un po' demenziale No guarda Ti garantisco La sceneggiatura È di Tina Fey Ripeto Quindi è Confermato Adesso anche controllato Quindi Cioè è un film Proprio Che non è scritto Con quell'intento Leggero e basta Cioè è un film Veramente Fico E c'ha delle scene Che ormai Per noi amanti Di Mingers Sono diventate Iconiche Te le ricordi sempre Sono molto molto iconiche Per certi versi È veramente brillante E secondo me Ovviamente Vuole essere Un finto film Superficiale Un finto film Sciocco Però in realtà Ti racconta ben altro Tra l'altro Rachel McAdams Fa questa Regina George Fa questa cattiva Ed è stato Il ruolo Che l'ha lanciata Perché Quello è stato un film Per cui lei ha preso Anche dei premi Come tipo Miglior cattiva dell'anno Una cosa del genere Però Guarda Lei è Assurda In quel film Tu non la riconosci Se la vedi in quel film Tutti i ruoli Che lei ha fatto dopo Che sono dei ruoli Molto più Miti Molto più tranquilli Ha fatto sempre Personaggi positivi Dopo Anche personaggi Un po' più smaliziati Come nel Nello Sherlock Holmes Con Robert Downey Jr Però comunque Personaggi anche Molto Molto più dolci Tu non la riconosci Cioè se fino adesso L'hai vista in altri ruoli Tu non ci credi Che lei sa fare Anche quella roba È fichissima È proprio assurda Devo vederlo Guarda Poi se ti piace Sex and the City Te lo dico Ancora più Un po' leggero Vedi Te lo vincere Assolutamente Ma a me Ti diverti Ma sì Ma poi anche queste cose Che non sarebbero Per il pubblico Per il pubblico maschile Blah 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 Sti cazzi A me personalmente Mi incuriosiscono Ancora di più Ma sì Ma poi gli amanti del cinema Devono vedere tutto Sti cazzi Se è destinato a uno O a un altro Ti ripeto Non l'ho visto Semplicemente Non tanto per Per il pubblico A cui è destinato Perché mi è sempre stato Rifilato come un film Inchiata Quindi Un film inchiata Allora non lo vedo a prescindere Ma non me ne hanno mai Parlato così Dai Se ti capita Vedilo perché Lo vedrò E ti faccio sapere Io ho avuto la fortuna Di scoprirlo Da adolescente Del top Dice Realfiro Fra l'altro In chat Ci sono stati Un sacco di ragazzi Che scrivevano A me è capitato Di vederlo E mi è piaciuto molto E sono un ragazzo Blah 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 Quindi Devo vederlo Infatti Infatti Io lo dico Che è solo Un pregiudizio Perché secondo me Invece è un film Su cui anche i ragazzi Si possono divertire Tantissimo Assolutamente Cioè se vi capita Vedetelo Assolutamente Sì Vedrò Ti farò sapere Vai Sette Perché già Vedo che ti ruberò Pi di due ore Perché già siamo a due ore Ma abbiamo ancora finito Vai No problem Dopo il sabato I tuoi ascoltatori Se reggono Sì no Qua Figurati Qua giochiamo a scala 40 Dopo le due Su sto canale Quindi Siete proprio Un tambore Qua famo le cose incredibili Vai Allora Il prossimo Il prossimo invece Torniamo indietro Di qualche anno Di nuovo È sempre un film Che per me è stato Ispirazionale Motivazionale Ed è una commedia Di cui esiste Uno e un sequel E si tratta Di Sister Act È una commedia Che conoscete tutti Con Wopi Goldberg Come protagonista Che è questa Showgirl Che assiste A un omicidio Tra l'altro Il cattivo È Harry K. Tell Fichissimo Che si presta A questo film A questa commedia È fantastico Lei assiste A questo omicidio E praticamente È un testimone Oculare Che deve essere Che vogliono Eliminare E quindi viene Nascosta dalla polizia Tipo protezione Testimoni E viene messa Proprio in un convento A fare Finta di essere Una suora E per lei Che si chiama Delores Bancartier Bancartier È sempre piaciuto Il cognome E lei è una donna Cioè Lei è una donna Tosta Capito È una donna Con una certa esperienza Poi è una donna È una peperina La fanno vedere La prima scena C'è lei da bambina Che alla scuola Delle suore Le dicono Di scrivere i nomi Di tutti gli apostoli Sulla lavagna E lei scrive I primi nomi Li scrive bene E poi Alla fine Scrive tipo George, John, Paul E Ringo Scrive Praticamente Invece Scrive i nomi Dei Beatles Invece che i nomi Degli apostoli Eccetera E quindi ti fanno Peggy Smith Perché Peggy Smith Perché Peggy Smith Per me è tipo Nata vecchia L'ho sempre Visto Anziana Penso che lei È nata in quel modo Non so Non credo abbia Un po' come cosa Come si chiama Quello là del film Brad Pitt Che invecchia Al contrario Lager Esatto È un Benjamin Button Però cristallizzata Nel tempo Lei Sì Tipo così Esatto Un po' come Jessica Fletcher Esatto Anche Jessica Fletcher Insomma Perché Perché ti ricordi Questo film Cioè Cos'è Per quale motivo È così Nella tua testa Whoopi Goldberg In quel film È stata Tipo Una maestra Di vita Perché Il cinema Per me È stato Un maestro Di vita Nel senso Che Io Infanzia Adolescenza Sono sempre Sia sempre Stata io Di personalità Una ragazzina Che si isolava Molto Molto Per i cavoli Suoi Sembravo Sempre Strana Agli altri E Mi piaceva Stare per fatti Miei Molto spesso Quindi Era un po' Stramba E Sia comunque Ho avuto Sia l'infanzia Che l'adolescenza Sono sempre È stata Molto sola Nel senso Non sono mai Stata troppo Seguita Poi quando I miei Si sono Separati Si sono Distratti Ancora di più Insomma A me È il cinema Che mi Ha cresciuta Praticamente E Per me Whoopi Goldberg In quel personaggio Di sua Maria Claretta È stata tipo Una mentore Una sorta di mentore Perché Il suo modo Di motivare Le sorelle A cantare Il modo in cui Tirava fuori La voce da loro È il modo in cui Gli insegnava A trovare fiducia In se stesse O a trovare La propria strada Anche il 2 Il 2 ancora di più Perché nel 2 Non so se Ci sono i ragazzi Certo che l'ho visto Ci sono i ragazzi La scuola E c'è quella ragazza Super problematica Che è Lorraine Hill Esatto È mostruosa C'è una voce assurda Per chi non se la ricorda Ragazzi Scusami Per chi non se la ricorda Solo col nome Lorraine Hill È Kill me softly E sta roba qui No? C'è la cantante Di Fugees Bellissima Una pazzesca Madonna mia Che voce Lì era giovanissima E faceva questa ragazza Super problematica E E mi ricordo benissimo C'è questa frase Del film Che da quel Da quando lo vidi Mi rimase proprio dentro Che le dice lei A un certo punto Le dice Whoopi Goldberg Perché lei è molto insicura Il personaggio di Lorraine Hill Fa la strafottente Ma è solo una maschera Lei è molto insicura Esatto E le dice Senti Non ti devi fare problemi Di questo Di quello Di quell'altro Se tu Tutte le mattine Ti svegli E la prima cosa Che pensi È cantare Cioè Se ogni mattina Ti svegli La tua ossessione La prima cosa A cui pensi È cantare Allora Sei una cantante E quella frase Mi è rimasta dentro Per sempre Perché io ho cominciato A pensare Qual è la prima cosa Che penso Quando mi sveglio Alla mattina Capito E quindi Non lo so Lei il suo ruolo Quel personaggio Fa tutta una serie di cose Dice tutta una serie di cose Motivazionali Che tirano fuori Veramente La Il percorso Il talento Dalle persone Sembra proprio magica In quel senso E per me È stata tipo La mia mentore cinematografica No? Cioè Tipo Una mentore di vita In quel senso E Mi ricordo Tutte le cose Che diceva Cioè Mi ha aiutato molto Mi ha motivato molto Il suo personaggio E E quel film Poi Uno dei pochi film Black Che In cui c'erano Quasi tutti Attori Afroamericani In quel periodo E che erano anche Così belli Così E che parlavano anche Soprattutto nel 2 Parlavano anche Non erano solo dei token Ma parlavano anche Di una sottocultura Soprattutto il 2 Di una sottocultura Afroamericana Di tanti stili di sottocultura Perché poi tutti i ragazzi Erano diversi tra loro Tutti diversi Sì È bellissimo Il pezzo finale Quando canto la canzone finale Che c'è un pezzo rap C'è un pezzo Più hip hop Cioè Ci sono stili diversi Geni diversi Fatto apposta Immagino Proprio per giocare Con queste differenze Che vanno Ma pure come si estivano Cioè proprio Era marcato Il fatto che erano diversi Che era un gruppo Di gente diversa Ti faceva entrare Proprio nel loro mondo Capito Non era solo Perché già il primo Effettivamente il primo C'era tipo solo lei Era lei che doveva essere Quella strana Quella estranea Diciamo a tutto Non solo Nel suo Avere una personalità diversa Ma Sfruttavano anche il fatto Che lei fosse nera No? Quindi proprio doveva essere Letteralmente La persona fuori posto In ogni contesto L'unica Suora di colore Se non ricordo mai Era l'unica Nera all'interno Nel primo Nel primo Lei è l'unica Esatto Perché lei Nel film deve Ribaltare la situazione Deve far vedere Insomma Che le cose Sono ben diverse Quanto è figa In realtà Lei Però tutti i personaggi Positivi di quel film Sono afroamericani Cioè E anche i personaggi Che hanno un ruolo importante Perché per esempio Anche il detective Che la mette lì Che la protegge Eccetera Anche lui è nero Vero Quindi i personaggi Più fighi Sono E più sicuri di sé Sono i personaggi Afroamericani Mentre la madre superiore Che all'inizio è una stronza Oppure La suora Quella insicura Che non riesce a cantare Quella che invece calta Con una voce troppo forte Il cattivo Loro sono tutti i ruoli Che invece Sono Bianchi Diciamo E nel 2 invece C'è una grossa Una grande presenza Invece di ruoli Di persone afroamericane E anche una grande diversificazione Tra le personalità Tra gli istituti Della cultura Cioè Con lo stesso giochino Però racconta un'altra cosa Io mi ricordo che Ok Quando lo vedi Era un ragazzino La prima cosa che ho amato Alla follia Fu la musica Perché Cioè I will follow him Cioè Pazzesca Quella Ecco Violetta stavolta Si è frezzata forte No Eccoci Sei di nuovo Ho visto Ho visto un attimo Che ti sei frezzata forte E ripartito La cosa che mi colpì Fu la musica Da ragazzino Poi da più grande Ovviamente Vai a Prendere Tutta una serie di cose Apprezzi Tutta una serie di cose E invece il secondo E invece il secondo Mi colpì di più Proprio perché C'erano dei ragazzi Perché c'era Io mi sentivo Un po' Uno di quegli stronzetti Là dentro Un po' Ribelli No? Che non vogliono Legarsi A lei Che rappresenta Un'istituzione E invece poi Ti rendi conto Che magari Non sempre Per forza Devi andare Contro Quell'istituzione Che a volte È solo lì Perché ti vuole aiutare E anzi Molte volte Rappresenta la tua salvezza Da diversi punti di vista Cioè non hai una strada Non sai dove sbattere la testa E invece c'è qualcuno Più grande Che ti può Dirigere Ti può dare una mano E quello Mi colpì molto di più Guarda grande Infatti io ricordo Che volevo proprio Cioè io facevo il confronto Tra lei E gli insegnanti Che ho avuto a scuola Che avevo a scuola Poi negli anni E Spera Volevo proprio Incontrare Una maestra Una professoressa Un insegnante Come lei Che ti potesse appassionare Alle cose come lei Che avesse una passione Per le cose come lei Esatto era quello Però era Davvero difficile Incontrare E anche che fosse così Vicina Alla tua generazione No Perché Lei era molto vicina Ai ragazzi Li capiva molto Nonostante fosse Molto più grande Invece magari Anche se trovavi Una professoressa Un professore Che Aveva Comunque una passione Per il proprio lavoro Magari a volte La difficoltà Era che invece Era troppo adulto Magari troppo grande E non capiva poi Tutto il contorno Dei ragazzi adolescenti Che sono a scuola Quindi insomma Desideravo Tipo io la guardavo E desideravo Sempre avere un insegnante Come lei Vubi Goldberg In generale Fa sempre Non lo so C'è sempre voglia Di abbracciarla A me piace un sacco Il suo sorriso Lei secondo me È una bellissima donna E il suo sorriso Mi piace tantissimo Cioè Mi dà sicurezza Sì 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 Da un certo punto di vista Gli dà sicurezza È una donna rassicurante Capito? Sì È proprio una donna Rassicurante Che ha un aspetto Un atteggiamento Un modo di parlare Un modo di fare Ti trasmette proprio Una sensazione rassicurante Veramente Però non quel rassicurante Materno C'è proprio Non lo so Rassicurante Per scindere Capito? Sì una cosa strana Ispira fiducia Una cosa strana Molte persone la ricordano Soprattutto per Ghost Che cos'era Sì Ecco io no per esempio E neanche io Io per Sister Act Però per me lei è Sor Maria Caldetta Capito? Sì 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 O Sor Maria Calzetta Come dicevano Esatto Come dicevano in chat Più volte Sì infine Perché lo dico no Anche nel film Non so se hanno fatto Sister Act 3 Credo l'abbiano fatto Però senza Lei ha fatto i primi due Non credo abbiano fatto Il terzo Non credo Non ne sono sicuro Forse magari qualcuno In chat Che io di solito Quando tiro fuori Questi punti interrogativi Qualcuno controlla Però non credo Hanno fatto diversi musical In giro Basai su Sister Act In America Broadway stesso Eccetera Non con lei ovviamente Però Hanno fatto diverse cose Non credo abbiano fatto un terzo Però Non credo Però non so dirti Chissà Con certezza Bellissimo comunque Una bellissima commedia Un musical Oddio sai che non lo so Questo è un musical Una commedia musicale Una commedia musicale Musicale ok Perché Il musical in teoria È praticamente Un'opera In cui si canta tutto il tempo Cioè La musica racconta la storia Anche i dialoghi sono cantati Esatto Quello sarebbe proprio La definizione classica Di musical Che non ci sono praticamente Dialoghi che non siano cantati Comunque è stato fatto Sister Act 3 Sono pochissimi dialoghi Scrivono in chat Che è stato fatto Sister Act 3 Non ho idea Con chi Non lo voglio Ma cosa E non credo Che lo vedrò Quindi No No Ma è Levi lei È inutile Fare Sister Act Come Per esempio Prima Che si parlava Di Mrs. Doubtfire Non mi ricordo Da poco tempo Uscita una Dicharazione del regista Che disse Che si parlava Di un possibile Viviamo il periodo Del reboot Remake Sequel Eccetera Stiamo vivendo Quella situazione Là Adesso poi Non ti ho detto Prima di chiudere Nel futuro Te lo dico dopo E ci fu Questa Questa cosa Che disse Ma magari Un altro Mrs. Doubtfire È il regista Che è famoso Ma non mi ricordo Esattamente come si chiama È Chris Columbus Se non sbaglio No Chi è Forse Chris Columbus Che è quello di Stoppire Sì Credo che sia Chris Columbus Che è quello di Mamma ha perso l'aereo Mi pare Credo sia lui Credo sia lui Il regista Che comunque Dichiarò Non è Pensabile Un altro Mrs. Doubtfire Senza Robin Williams Cioè non esiste Proprio fare un altro Mrs. Doubtfire Senza Robin Williams Perché Mrs. Doubtfire È Robin Williams Cioè Oltre a tutti i concetti Fighissimi C'è il film Eccetera Però quel personaggio È lui Non esiste Senza di lui E meno male Sì no vi prego C'è alcune cose Lasciamole così come sono Sì sì non vanno toccate Anche se imbecchiano O imbecchiano male O quello che ti pare Però alcune cose Lasciamole morire Lasciamole in pace Non facciamole rigirate Nella tomba Comunque Lasciamole in pace Così per darti notizia Alba Noella dice che Sister Act 3 In fase di progettazione Vupi Goldberg Tornerà a vestire i panni Della protagonista Deloris Van Cartier Dopo quasi 30 anni Al primo film La conferma ufficiale È arrivata dalla Disney Che ne curerà la produzione I film infatti Sarà disponibile In esclusiva Su Disney Plus Allora Devo dire che Da una parte Sono contento Dall'altra parte Cioè sono contento Perché mi piace Vupi Goldberg E rivederla In quel ruolo Mi piace D'altra parte Un po' mi spaventa Un minimo mi spaventa Ovviamente sì Vabbè però In questo caso Lo vedrò Innanzitutto perché Non è un reboot Ma è un sequel E poi perché Vogliono fare il seguito Di quella saga Quindi una chance Gliela posso dare Diciamo Facciamo anche un reboot Nel 2000 22 Quest'anno Quest'anno allora Prepariamoci Dai Ok Speriamoci sia Maggie Smith Il musical è molto cantato Che ci siamo E in chat dicono Speriamoci sia Maggie Smith È ancora là Fra l'altro ragazzi Piccola notizia veloce Maggie Smith ci fu Il notizione Che praticamente Girò tutta una parte Di Harry Potter Mentre lottava Contro il cancro Perché ha avuto pure il cancro Quella donna È riuscita A quanto pare Uscirsene E tanta Tanto di Harry Potter L'ha girato Appunto Mentre stava sotto chemio Eccetera Che la tenevano Letteralmente in piedi E tu Vedi quel film E dici Ma che sta dicendo Non è vero E invece Pazzesco Che professionista Ma no Incredibile Scusami Ti ho interrotto Per dire questa cosa Stavi dicendo poco fa No stavo finendo di dirti Che appunto Il musical È tutto cantato Praticamente Oppure con delle piccole eccezioni Diciamo Che c'è davvero poco parlato Mentre la commedia musicale È tipo sister act Capito Quindi ci sono La storia Dialoghi E poi ogni tanto Ci sta una canzone Una canzone Quindi Quella è la differenza principale Comunque Allora Il prossimo film È il penultimo Il penultimo Ed è un film No questo qua Lo voglio tenere Per ultimo Va bene Va bene Va bene Perché Ti dico L'ultimo Che ti dirò È perché Proprio Me l'hanno già Spoilerato Praticamente Da quando ho iniziato Ho detto Che avrei fatto Questo live con te Mi hanno poi Iniziato a scrivere Sicuro Questo sicuro Lo metto E forse So anche qual è Però dai Andiamo avanti Magari non l'ho messo Allora Il prossimo Di cui Che nominerò Torno A parlare Di un film D'animazione Un film Disney Che è stato Snombatissimo Veramente Snombatissimo Però Per me Invece È stato Uno tra i più belli Che Che loro Abbiano mai Mai prodotto Quindi chissà Se l'hai visto E sto parlando Dell'unico Film Steampunk Di Disney È il pianeta del tesoro Non l'ho visto Eh Vedi Non l'ho visto Non l'ho visto Non l'ho visto Perché È un gran film È tremendamente Cioè Proprio Se ne parla pochissimo Non se lo caga Nessuno È proprio Buttato lì Sì È un peccato Perché è una Bellissima storia Di formazione Un coming of age Praticamente Con questo ragazzo Praticamente Il pianeta del tesoro È una versione Disney E steampunk Liberamente Ispirata A È il classico Al libro L'isola del tesoro L'isola del tesoro Sì ok Esatto Ci sono Quei nomi là Alcuni di quei nomi là Quei personaggi là C'è John Silver C'è Jim Hawkins Alcuni di quei nomi Li riprendono Diciamo Però è molto Liberamente ispirato Anche perché Appunto È una specie Di storia di formazione Lui è un ragazzo Molto problematico Perché il padre L'ha abbandonati Da piccoli Lui è sua mamma E Un certo giorno Per una serie Di vicissitudini Si imbarca In questa avventura In una nave Che però È appunto È Fantascientifico E steampunk Quindi una nave Volante Loro volano Nello spazio Con questa nave Quindi anche Un po' Star Wars Per certi versi Sono i pianeti Le cose Le pistole laser E Praticamente Parte con questa nave E lui è Sempre super scontroso Sempre un po' così E non si fida di nessuno Ha imparato a diventare Diffidente Perché c'è questo Trauma grande Dell'abbandono Che il padre Se n'è andato Che lui era piccolo Che Cioè Voglio dire Per essere la Disney Di quegli anni Di quegli anni È grande roba Eh sì 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 Non era la Disney De Bambi Tu ti dite Vabbè ma allora Bambi Eh però La Disney Quella oscura Era molto Molto prima Poi la Disney Negli anni Del tesoro Era tutta un'altra storia Quindi c'era Sto ragazzino Che era proprio Forte la scena In cui questo Genitore Se ne andava E che lui Cambiava Facevano proprio Vedere il cambio Di personalità Cioè era una cosa Abbastanza forte E lui praticamente Fa Amicizia Con questo Cuoco di bordo Questo John Silver Che è questo Omone adulto Che è anche Mezzo cyborg Perché ha tutti impianti Meccanici C'ha un braccio Meccanico Così E praticamente Diventa una sorta Di figura paterna Per lui Quindi lui Ricomincia Ad aprirsi Ad avere fiducia Negli altri Perché è molto Protettivo con lui Di qua e di là Finché poi Questo sfortunato Jim Hockitz John Silver È comunque Il personaggio Di John Silver E quindi Lo pugnale alle spalle Diciamo Poi si scopre Che in realtà Stava Era il cattivo Diciamo così Fa un ammucinamento Praticamente Alla nave Con cui loro partono Eccetera E quindi Per Jim È un secondo Trauma Diciamo Che vive In questo senso Mazza Che attività di forte Sì È Bello tosto Bello tosto Perché Perché l'hai messo Cosa Cos'ha di particolare Questo film È proprio Questa Questa storia qui Tutto Mi aveva colpito Moltissimo Tutta la questione Della sfiducia Della fiducia Che Mi riguardava Molto da vicino Non riuscire più A fidarsi degli altri E quindi Io mi ero Identificata tantissimo In questo personaggio Di Jim Hawkins E mi ricordo Anche tanto Che io Mi legavo Spesso A queste figure Tipo Di mentore Appunto In questo caso Era una sorta Di figura paterna Per questo Jim Ti ho parlato Prima di Whoopi Goldberg Missed of Fire Avevo Era proprio Anni Periodi In cui Sentivo proprio La necessità Di una figura Del genere Di un punto Di riferimento E quindi Rimanevo sempre Molto Attratta Da questo genere Di Storie qui E quindi Anche questo È stato proprio Un film Che mi ha Che mi aveva Emozionato tanto Mi aveva coinvolto Tanto Era una storia Complessa Era già un periodo In cui Cominciavo ad apprezzare Di più Le storie Più complesse Più problematiche Più oscure Con dei lati Più complessi Perché Stavo crescendo Sempre un pochino Di più E quindi E però C'era una canzone In questo In questo Film Che è Famosissima Che poi Da noi L'ha interpretata L'hanno interpretata Agli 883 Max Pezzali Ed era Ci sono anch'io Che è diventata Poi anche Ah poi l'ho sentita Sì 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 Ho capito Sì è diventata Molto famosa Quella canzone E praticamente È stata tipo La mia canzone Preferita per tanti anni Perché la storia Di Jim In questo Pianeta del tesoro Oltre a tutto Il discorso La figura paterna Era una storia Di rivalsa Era una storia Di riscatto Perché lui partiva Dal basso E aveva questo Desiderio Di riscatto E questa cosa Mi piaceva tantissimo Perché poi Da quel momento in poi Io mi sono praticamente Identificata In tutte le storie Di riscatto Ogni volta che io Vedo poi una storia Di riscatto E io mi ci identifico Mi piace molto Sì perché Le vedo molto vicino A tante Delle mie esperienze Personali E quindi Mi ero tantissimo Identificata Con questo Jim E con questa canzone Con questa storia Di riscatto E poi c'è nel film C'è proprio Un videoclip Dentro il film Praticamente Dove c'è la canzone Ti fanno vedere Solo immagini Perché quel periodo Andava un po' così Si facevano queste cose Che nel film Non si cantava Ma si metteva Un videoclip Anche Tarzan Era così Per esempio Tarzan lo entro Visto una volta Tarzan anche C'era queste canzoni Cantate da Phil Collins Dove nessuno cantava Però Vedevi Si vedevano le immagini Il montage In pratica Praticamente si Ed era appunto La canzone era Ci sono anch'io Perché parlava di una persona Che ne aveva Viste tante Nella vita Che ogni volta Che cercava di Raggiungere un obiettivo Aveva buttata giù Ogni volta Prendeva porta in faccia E si tirava su Fino 2002 Sì ma che mi vado Vedere altro Stavo crescendo Volevo Vabbè ma è normale Comunque Cioè ci sono passata Pure io Nel periodo in cui Certi titoli Ho detto Ma io non so più In target Questa cosa Non mi interessa Vederla Quindi è normale Assolutamente Però L'isola del tesoro Che poi mi ricordo Poi la copertina Infatti mi ricordavo Questa nave Questa specie Quindi molto antico Però il contesto Era futurista Perché volava Nello spazio Praticamente È simbile Perché mi ricordo Mi ricordo Il disegno Mi ricordo La locandina Però non Non mi è mai Capitato di vederlo Molto bello Era molto particolare Come ambientazione Come idea Diciamo Mi sono frizzata di nuovo Ti sei frizzata di nuovo Sei ripartita Sei ripartita Ok Sono ripartita Quindi molto particolare È una roba Tanto su Disney Plus C'è Sicuramente Sì Sì Come no Certo Saranno di quei classi Eh domani Sabato e domenica Già ragazzi Violetta mi ha dato Due film da vedere Mingers E questo Tra l'altro c'è Prima pacemaker Dipendente Un utente Che dice Violetta Prima mi piacevi Ma adesso ti amo Cioè C'hai queste dichiarazioni Ma adesso no Ma adesso no C'era Gianni Prima che si lanciava In Sei esattamente come Sei la donna E la mia vita Una cosa del genere Ha scritto Prima Gianni Si è sbottata A questo punto Ti amano tutti Ma questo Questo era fuori Di ogni dubbio Però questa sera Adesso Pacemaker Dipendente Gli piacevi Ma adesso ti amo Quindi Siamo a nove Siamo a nove Vai Dacci l'ultimo Dacci l'ultimo Che tanto so Qual è Però C'è qualcuno In chat Che mi conosce Lo sanno Anche loro Descrivici Facci entrare Dentro questo film Come hai fatto con gli altri Il resto Sei stata bravissima Questa sera E sei stata la prima Adesso mi ricordo Quanti sono venuti A fare questa cosa Che piano 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 Ci hai fatto entrare Dentro Dentro questa Dentro le storie Dei film Vai Del resto E il tuo lavoro Lo fai magnificamente Quindi Vai Dunque Vediamo Tutti L'hanno scritto Già Vai Fantastico Spoiler Vai 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 Però Però Fai conto Che nessuno Ha scritto niente Non lo sapete Non lo sapete Allora Qui siamo Sicuramente Il film più recente Che vi proporrò Questa sera L'ho messo Anche per ultimo Così anche un po' Per quello Perché si tratta Di un film Del 2016 Un film Che ha ricevuto Il plauso Del pubblico E della critica Un film Che ha preso Un sacco De Oscar Che ha suscitato Anche dell'imbarazzo Alla notte Degli Oscar C'è stato un po' C'è stato un po' Un litigarsi Un Oscar A un certo punto Perché qualcuno Degli addetti A consegnare le buste Era rimasto Troppo folgorato Dall'attrice Protagonista Che era lì A leggere i vincitori E si è un attimo Rintronato Capito Sbagliato Da Abusa Giustamente Ed è un film Che apparentemente È una Love story No non solo apparentemente È una love story Però è sicuramente Una love story Molto diversa Da quello a cui Siamo abituati Perché è un finale Che ha diviso Il pubblico Nel senso che Alcuni Come me Lo hanno trovato Meravigliosamente Giusto Per questo tipo Di film Meravigliosamente Lucido Meravigliosamente Disilluso E molto vicino Ai millennials Alle persone Della mia generazione Il regista Infatti è abbastanza Giovane Diciamo È un po' più grande Di me Però è comunque Giovane E ad altri Invece Ha scioccato Letteralmente Perché dopo tutto Quello che abbiamo Che avevano visto Quel finale lì È stato Un trauma Anche secondo me Però un trauma Bello Capito E E per la regia Di Damien Chazelle Si tratta Ovviamente Di La La Land Che ti dico Subito A me non è piaciuto Che ti dico Sì Che ti dico subito A me non è piaciuto Per niente Vai Dimmi perché Non ti è piaciuto Mi ci sono addormentato Davanti più volte Non l'ho visto Al cinema L'ho visto L'ho visto In On Demand E ci ho provato Tre volte A vederlo È probabilmente Quello Ci sono addormentato Davanti più volte Ma tu sei un amante Dei musico Oppure no Sì Ma io sono Moulin Rouge Dipendente Ok Siamo d'accordo Comunque C'è anche Moulin Rouge Ci è mancato poco Che lo mettessi Tra i dieci Poi alla fine Ho dovuto fare Una scelta Moulin Rouge Dipendente Moulin Rouge L'ho visto Un trilione Di volte C'è Lo conosco Moulin Rouge Lo conosco Per stacchi De montaggio E Moulin Rouge È montato No frenetico De più Tipo In quadratura Dopo in quadratura Me lo ricordo In pratica La colonna sonora In quel modo In quel modo In giro Perché mi piace Tantissimo Quell'epoca Quella situazione Eccetera E Moulin Rouge Cioè Al cinema L'ho visto 4-5 volte Una cosa Del genere E poi Va bene DVD e Blu-ray Manco te lo dico Perché non si calcolano E sono E quello L'ho amato Alla folia Mi piace molto Il musical Mi piace Chicago Ho amato Recentemente L'ultimo che ho visto È stato West Side Story Che non so Se l'hai visto Guarda È uno di quelli Che mi manca Ma non vedo l'ora Di vederlo Perché Ci tengo molto Tu esci Da là dentro E dici Cazzo Finalmente Di nuovo Cinema C'è proprio Cinema È proprio Cinema Con la C Gigante Capito Cioè Una meraviglia Quella che lo amero Guarda Perché mi piacciono Poi i music Ti piacciono I music Queste storie Quindi Lo amero Già lo so Una meraviglia Una roba Lui che è così Scherucetto Lui mi sta Super simpatico Il protagonista E anche lei Lei è taxi driver Baby di taxi C'è Taxi driver Baby driver Esatto Quel film L'acqua Lo adoro Sì 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 C'è lui Lei è il suo Primo film Mi pare Perché Non mi ricordo Lei come si chiama Ma è Nei titoli di coda C'era Introduzione Di bla 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 Ma è un remake Sì certo Che è un remake West Side Story Il primo mi sa che è del 67 8 9 La cosa bella è come Fare West Side Quando ho sentito che Spielberg doveva fare West Side Story Mi sono chiesto perché Per diverse Per diverse cose Ho detto Ma mai fatto un musical Che cazzo c'ha zecca Lui un musical Però poi ho pensato Vabbè ha fatto di tutto nella sua vita Buttiamoci dentro pure il musical Però pensavo proprio perché West Side Story A parte che è uno dei suoi film preferiti Eccetera eccetera Però perché rifarlo adesso Dopo che l'ho visto mi sono detto Porca puttana quanto cazzo è attuale Cioè è un film vecchissimo Una storia vecchissima Ma è tremendamente attuale Bellissimo Comunque scusami Ti ho parlato di altri musici Voglio vederlo Bellissimo Ci tengo particolarmente Raccontaci per te La La Land Perché il mio preferito di Chesel È Whiplash Whiplash A me mi dà un'impressione molto strana Di Whiplash Ogni volta che lo vedo Mi sembra che duri di meno È una roba che non mi rendo Cioè quanto dura? Due ore Whiplash? Non ne ho idea Mi so di sì Però c'è un ritmo assurdo Non riesco Ho avuto una percezione Che è molto più veloce Di quanto effettivamente dura Non riesco a percepire Quando tu vedi un film Ti rendi conto Vabbè sto film è di due ore Sto film è di due ore e mezza Sto film è di tre ore Eccetera eccetera Quando vedo Whiplash Non mi rendo conto Di quanto dura Mai È vero Beh quello è perché Il ritmo che c'ha quel film È notevole È incredibile È incredibile Anche perché È proprio un film Su un batterista Praticamente Che riesce a A darti quella sensazione Di ritmo Di proprio di percussioni Per come è montato Per come sono fatte le scene Per come si spostano le scene Gli attori È Damien Chazelle È figo È incredibile Tra l'altro Whiplash vinse pure l'Oscar Per il montaggio L'anno in cui uscì Cioè Meritatissimo direi Poi loro due Pazzeschi Lui siamo pazzeschi Simons in quel film Cioè Madonna Lui è bellissimo In generale In quel film Ci ha proprio avuto La possibilità Di dare Il meglio di sé Diciamo Perché è un personaggio Veramente Notevole È difficile È difficile È un personaggio così È La La Land Se non sbaglio È il suo secondo film Può darsi Se non ricordo mai Il suo secondo E probabilmente Fu anche Quello il motivo Perché Whiplash Mi mandò proprio Sulla luna Letteralmente Cioè Ti aspettavi qualcosa Più come Whiplash Non lo so Non lo so Però Forse una cosa Di cui pecco Molto spesso È l'aspettativa Esagerata Cioè Whiplash Proprio Mi fece impazzire Totalmente Per tutto Gli attori La fotografia Il montaggio Era pazzesco La musica Io la colonna sonora L'ascolto in macchina In continuazione Perché Stupenda Cioè Tutto 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 La La Land Mi ha annoiato Però Vai Raccontaci il tuo La La Land Per favore Molto diverso Da Whiplash Chiaramente Perché È proprio Un altro mondo Io ci credo Che se tu hai visto Io Whiplash L'ho visto dopo La La Land Per esempio Però io ci credo Perché ho scoperto Chazelle Con La La Land Ho detto Wow Voglio vedere Altri film Di questo regista E quindi Ho visto Whiplash Perciò Non ho avuto La tua sensazione Però Secondo me Se avessi visto Prima Whiplash Forse mi sarei Aspettata Più Quello stile Invece La La Land È proprio Un'altra cosa E quando ho visto Whiplash Già sapevo Che era Un universo Differente Diciamo La La Land È proprio Quella Colossal Musical Hollywoodiano Fatto apposta In quel modo Perché in realtà Mette completamente In discussione Il Colossal Musical Hollywoodiano L'età d'oro Di Hollywood Eccetera eccetera Perché ci butta sopra Questo Sfilzante Sguardo Disilluso Praticamente E tu vedi Los Angeles Vedi Hollywood Vedi tutto Ma da un punto di vista Che è completamente diverso Vedi Lo vedi dal punto di vista Di personaggi Che arrivano lì E sono lì Con quell'immaginario Con quel sogno Di gloria Con il sogno Con cui tutte le persone Che non sono native Di Los Angeles E hanno Aspirazioni artistiche Vanno a Los Angeles Quindi Un mondo Immaginato Immaginario Praticamente E poi si scontrano Con la realtà Perché Los Angeles In realtà È una città Molto dura E E non è una città Così Magica Come Come vogliono Farla passare E così tanto dei sogni Solo per Pochi eletti Alla fine Lo diventa E Anzi Per certi versi Los Angeles È anche una città Un po' squallida E La La Land Ti dà Anche questa prospettiva Cioè Ti mette queste due cose vicino Ti fa vedere Il sogno Perché è incredibile Meraviglioso Queste coreografie Allucinanti La prima scena di La La Land Quella sull'autostrada Quello è Un piano sequenza L'hanno rifatto Tipo Non so quante Cazzo di volte È una cosa Assurda Solo quello Sì Quello L'abbiamo L'abbiamo studiato Per come cazzo hanno fatto Hanno fatto delle robe Veramente assurde Giorni e giorni Di prova Con Cazzo Che andava in giro Col telefonino Anquadra le persone Giustamente No poi l'autostrada Che stava messa male Un macello Un macello Però bellissimo No quella c'è Tecnicamente è bello Però vabbè Quindi E poi Io faccio pure un debole Per le musiche Le musiche a me fanno Impazzire di La La Land Quello senti un milione Di volte E Quindi ti mette Il sogno Capito da una parte E ti fa vedere Ti lo fa vedere Proprio dal punto di vista Delle persone Che quel sogno Lo stanno facendo Lo stanno vivendo Lo vogliono E poi dall'altra parte Ti mette La realtà Cioè Ti mette tutte le cose Contro cui ti devi scontrare Ti mette la quotidianità Perché anche loro Il loro incontro E tutta la storia romantica Eccetera E poi però Arriva la realtà Arriva la quotidianità Loro cominciano a convivere E ci sono i problemi Delle persone Di tutti i giorni Ci sono dei problemi Che tu hai già sentito Hai già visto Hai già vissuto E Tutta quella magia Tutto quel Mastodonte Quel colossal Quel clamore Che vuole farti Che fa La La Land Che ti fa vedere La La Land E che lo gonfia così A differenza di come erano I musicali una volta Ti fa vedere anche proprio L'altra faccia della medaglia Quindi ti smonta tutto Completamente E' un contrasto Bellissimo Secondo me Davvero intenso E struggente Ci sono dei momenti Di La La Land Che sono struggenti Perché a un certo punto Il film parte così A mille E tu vedi Lustrini Colore Già che è E poi a un certo punto Quindi sale sale Cioè sta tutto in salita E poi a un certo punto Comincia a crollare Comincia a fare la discesa Comincia a dire Qua si sta rompendo tutto Non funziona niente Quello è disilluso Quest'altra Continua a provare Non ce la fa Si stanno cominciando A beccare tra di loro Perché hanno idee diverse Interessi Il mondo intorno a loro Che praticamente frana Fino ad arrivare Secondo me L'apice massimo Del film È poco prima Della fine Ed è il momento In cui lei ricorda In particolare Lei ricorda Sua zia Lei fa un'audizione La canzone si chiama Proprio Audition Se non sbaglio Fa questa audizione Che deve essere Tipo l'audizione della vita Lei super disillusa Ormai sta mollando Praticamente Fa quest'ultima audizione Per un film europeo Addirittura Quindi Nemmeno Per un film Hollywoodiano Capito Per un film europeo Per cui poi Viene presa Finalmente diciamo Dopo tutti i sacrifici Che cosa è E Durante questa audizione Lei che cosa sceglie di fare Sceglie di cantare Questa audition Che è una canzone Dedicata a questa zia Che però ovviamente La zia è Un pretesto È una persona Che conosceva lei E che è Il simbolo Di tutte le persone Che hanno provato E hanno fallito E non si sono più Rialzate però E Infatti Racconta di questa persona Della zia Che poi alla fine Dopo questo Dopo quello Dopo quello Dopo quell'altro Racconta tutto quanto E poi alla fine Diventa un'alcolizzata E si uccide In depressione Si butta al fiume Una storia tragica Una musica Assurda Lei che la canta Con quel filo di voce Suo di Emma Stone E io Ci credi Che è la canzone Più bella Della colonna sonora Ma io la salto Ogni volta Perché io Dopo un milione Di volte Ancora Non riesco Ad ascoltarla Fino alla fine Senza piangere La canzone Mi uccide Perché 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 per una come me Che parte dal basso E vive con l'idea Della rivalza E ama i film In cui c'è il personaggio Che c'ha la rivalza Vedere invece La realtà Che nella maggior parte Delle volte La rivalza Non arriva Ma sei quello Che si butta al fiume Perché La canzone È proprio sul fatto Che loro ti dicono Ti dicono Io forse Ce la faccio Forse no Sto qui a provare Ma la maggior parte Fanno quella fine là Cioè la maggior parte Non ce la fa Crollano Capito È uno su mille Ce la fa Però al contrario Capito Diciamo Ed è Struggente Commovente Il testo è pazzesco Veramente Lei la interpreta In una maniera Da brividi Ed è veramente Forte Come film Da questo punto di vista Nel senso che è un'illusione Che ti dà Però poi A un certo punto Si leva la maschera E ti fa proprio Scontrare contro la realtà Poi c'è un mezzo Le topine Perché poi Lei ce la fa Diventa un'attrice famosa E vai Lui Si fa la sua carriera Si apre il suo jazz bar Eccetera Però La vita è fatta Di compromessi Ti dicono Cioè il sogno completo Quello non esiste E il compromesso È che loro due Si separano Cioè Se fossero rimasti insieme Sarebbero stati scontenti Per sempre E invece Praticamente Per raggiungere I loro sogni Loro si devono separare Praticamente Quindi C'è comunque Uno scotto da pagare C'è comunque Una scelta da fare Ed è molto lucido È molto reale Soltanto la confezione Di La La Land È un sogno Però in realtà È un film Molto razionale Tanto che appunto Da molte persone Non è stato apprezzato Proprio per questo essere Così civico Sulle relazioni Però secondo me È molto Anche molto realistico Ed è bello Perché per la prima volta Sullo schermo Ho visto Per la prima volta Magari l'ho visto io Però poi ci sono stati Anche tanti esempi dopo Forse anche qualcuno prima Però è stato un periodo In cui si è cominciato A rappresentare I personaggi femminili Che non rinunciavano Alle proprie carriere In nome della famiglia Dell'amore E di solito Questa cosa veniva rappresentata Non come una cosa drammatica Tipo ho rinunciato a tutto Per il mio grande amore Ma nei film sentimentali Nelle commedie romantiche È meglio fare questo Il personaggio femminile Esatto Era una cosa Bella Era una cosa Normalizzata Era una cosa positiva Che tu rinunciavi a tutto Solo per quel sogno Che era sempre Lo stesso sogno Per tutte Soltanto Nel periodo di La La Land In poi Hanno cominciato È stato Iniziato Hanno iniziato A mettere in discussione Questo tipo di rappresentazione E in questo caso Infatti loro Prendono una decisione In cui si separano Perché poi È una cosa Che vale per tutti e due Non è che uno dei due No Cioè non è una lotta A chi cede Capito Sì 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 Esatto Cioè non è una lotta A chi cede Mi ricordo questa Discussione sul finale Che non era piaciuta A molta gente Io in realtà Il finale L'ho trovato logico Cioè Quando l'ho rivisto Uno dei motivi Per cui non l'ho apprezzato Probabilmente Perché l'ho vista a pezzi Cioè non l'ho visto per intero Però il finale Ho trovato assolutamente logico Cioè ok Non è Non è la favola Con l'happy ending Succede anche così Le cose finiscono anche così Le storie finiscono così Non ci fa niente Cioè da parte mia Anche ho vissuto Mezzo sogno Cioè sono trasferito A Parigi Tanti anni fa Per vivere Una città più grande Per vivere Perché avevi visto Il Moulin Rouge Sì perché avevi visto Il Moulin Rouge No perché volevo un po' L'Italia Ma avevo un po' Rotte il cazzo Ero un po' Disilluso Qui quindi Ho conosciuto Questa ragazza a Parigi Vado a vivere a Parigi Il cinema a Parigi In Francia Blah 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 Eccetera Ed è finita male Quindi C'è una cosa Che ho detto Ok Funziona Cioè Il finale Il finale ci sta Funziona Però non lo so Non mi ha mai Particolarmente funzionato Ma ti ripeto C'è un ragazzo In chat poco fa Per sbaglio Uscito su un commento Non volevo tirare fuori Un altro Real Hero Dice Violetta Ce l'ho di là Ricordami il titolo È il nome Un po' del cazzo Il migliore dei mali Il migliore dei mali Esatto Sono in due volumi Tra l'altro Adesso a febbraio Non ve ne frega niente Perché in realtà In Italia È già strauscito Però A febbraio Lo sapete Che lo distribuiamo Anche in Francia E in Spagna Quindi uscirà Con il titolo Le migliore delle mali E in spagnolo Come era Ho visto le copertine Perché le dovevo provare Era Vabbè non lo so In spagnolo comunque Sono sempre divertenti i titoli Quindi faceva ride Aspetta scusa Cioè Minchia Cioè nel senso Capisco E magari Dice me lo compro pure In spagnolo Perfetto Real Hero dice E vai Ma ti rendi Cioè te l'hanno stampato Quindi anche in Francia E in Spagna Te lo stampano Sì ma è sempre Shockdom voglio dire Sempre Shockdom Francia E Shockdom Spagna Però se lo fanno È sempre la mia casa editrice Se lo fanno È perché Il progetto Ha un determinato valore Probabilmente pensano Che tra Anche Tra i vari Insomma Tra le varie opere Che hanno pubblicato Anche il migliore dei mali Vale la pena Magari provare a vedere Come può andare In Francia In Spagna E così Io le Minchia No figurati A me fa Molto piacere Io sono contenta Insomma di questa Di questa cosa E vedremo Se può essere Un tipo di Racconto Che può essere Apprezzato anche All'estero Chi lo sa Tra l'altro In Francia è tosta Perché in Francia Con i fumetti Le cose Quelli sono Quelli sono Malati Loro sono Sì 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 No lo so Lo so Perché lo so già Poi ho anche Un'amica Che vive in Francia A Parigi Tra l'altro Da tanti anni Quindi insomma Anche lei mi raccontava L'ambiente Insomma Come del fumetto Ragazzi aspettate Che c'era Tony che stava Cercando di mettere Il link Su Il link del fumetto Su In chat Però non può Grazie Grazie Ma che grazie Cioè Vabbè ma Adesso Lo trovate Su Amazon Facilmente Sì sì Però mettiamolo Che io fra l'altro Ho fatto anche questa cosa Che ho imbarazzato Violetta tantissimo Cioè che è stato Di Ho comprato il fumetto Ovviamente Eccolo qua Il link Ho comprato il fumetto Quando Violetta È venuto in studio Mi sono presentato Col fumetto E gli ho detto Adesso mi ci metti Una dedica Lei mi fa Il saggio totale Super imbarazzata Ma che vuoi Mettimi la dedica Allora lì Che scriveva cose No no Però Dai Cioè Bellissimo Complimenti È una cosa Che mi piace Grazie Sono contenta Insomma Che abbiano deciso Di dargli Quest'opportunità Anche all'estero Vedremo come va Perché insomma Io non l'ho mai pensato Per un pubblico estero Chiaramente Quindi Chi lo sa Però ecco Sono più convinta Per esempio Che il prossimo Che è in lavorazione Che uscirà Non del migliore dei mali Il migliore dei mali 3 Ancora Non c'è Un'altra storia Una storia nuova Un'altra storia Sì esatto Che lo sta già La disegnatrice Lo sta già lavorando Da tempo E anche quello Quello è già previsto Che uscirà in Francia Hanno scelto Hanno scelto proprio La Francia Perché quello Su quello Sono un pochino Più fiduciosa Per l'estero In particolare Per la Francia Perché in questo caso Si tratta di una graphic novel Molto più adulta Destinata ad un pubblico Esclusivamente adulto Con dei temi Anche un po' forti E quindi nel senso È Ce la vedo Perché un po' Può essere un po' francese Capito Un po' pesante Un po' Così Un po' Grafic novel Grafic novel Che genere Chiedono Che genere Allora È un Drammatico Attente horror Ok Volendo È un horror In realtà Ma esce solo in Francia Esce solo in Francia O in Italia In Francia No 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 L'idea Se tutto va bene E se tutto Qui Non si sa mai qua Che succede il giorno dopo Se tutto va bene Abbiamo già Appunto Quindi vi dico Prendetelo come pinze Però in teoria Abbiamo previsto Il lancio A lucca Del prossimo anno Quindi a novembre prossimo E dovrebbe uscire Contemporanea In quel periodo Anche in Francia E O poco dopo Se lo vedremo E Diciamo che È Sì Dovrebbe essere Un horror psicologico In realtà Io lo definisco Drammatica Attente horror Per il semplice fatto Che Un horror Su carta Non ha la stessa Potenza Su schermo Perché tu Non hai il sonoro Non hai Tante L'atmosfera Cioè È più complesso E farti entrare Quindi lo definisco Drammatico Però in teoria Sarebbe sì Un horror psicologico Quindi ha un impianto Tutta un'impostazione Horror Però il messaggio Che contenuto Che contenuto dentro È molto specifico Rientri nel tuo genere Preferito Del mondo Del cinema Praticamente Esatto Esatto E come Migliore dei mali Anche questo Ha In questo caso Molto di più Tra le tematiche centrali Ci sono anche Quelle Queer LGBT Che a me Stanno molto care Praticamente Tutte Le cose Che scrivo Ci stanno Ma anche questo Sarà diviso Sui volumi No Questo è proprio Un volume Unico Grafic novel Secca Una storia Secca così È una storia Autoconclusiva E poi forse Arriva il migliore Dei mali tre Vediamo Aspettiamo novembre Aspettiamo novembre Allora Intanto Abbiamo finito Con i dieci film Mi pare che Lala Land Era l'ultimo Ti facevo tutto quel papello Ti ho detto del fumetto Eccetera Perché Non so Mi hai convinto A rivederlo Lala Land In qualche modo E non è facile Mi hai convinto A rivedere i film Però mi hai convinto A rivederlo Sotto questa Da questo punto di vista Lo rivedrò Lo rivedo a breve Da questo punto di vista Mi hai dato tre film Da vedere Due che non ho mai visto Questo l'ho già visto Però lo rivedrò Molto volentieri Perché Alla fine Cioè Quando parli di cinema Ne parli in maniera Che ti coinvolge E quella è una cosa Fichissima Dai su Ma quale film Ha fatto Quale musical Ha dedicato un brano È un inno ai falliti Quello lì Cioè È bell'estruggente Che ci sia questo inno ai falliti Commuovente Non l'ho conto Minimamente in quel modo Però Forse perché Proprio non mi era Perché Vabbè Molte volte Quando si doveva Vede i film Non so se è giusto dire Devi essere nel mood È un po' sbagliato Forse dire questo Però in parte Però in parte succede Cioè Se proprio non sei Se proprio non ti va Se proprio non sei nel mondo Di vedere quel particolare Tipo di cosa O è talmente forte Che ti acchiappa Lo stesso Per te Per le tue corde Oppure Cioè Magari che poi È una certa Non ci sei Possiamo riassumere I dieci film Della serata Vai Violetta Io Allora Aspetta Vediamo se mi ricordo Perché forse qualcuno Me lo dovrei ricordare Di solito Mi scrivo sull'iPad Ma era scarico Allora dovrebbe essere Il primo La sirenetta Poi c'è La morte di Fabella Poi c'è Ritorno al futuro Subito dopo C'è Min Girls Può essere Mrs. Doubtfire Poi c'è Min Girls Di Others Di Others Ah c'era anche di Others E no Non me ricordo più adesso Di Others Spider-Man Spider-Man Girls Sister Act Poi Vabbè La La Land E Ho perso la riga pure io Mi ne ho perso uno Dove cacchio Ah il pianeta del tesoro Il pianeta del tesoro Ragazzi Cioè Violetta saprebbe farmi Farmi apprezzare Qualunque cosa Qua scrivono in pratica Capito Mendo il ghiaccio ai pinguini Potrebbe farmi apprezzare Natale sul Nilo Non credo Però Sai qual è Il presupposto Che Se Riesco Magari Ho il potenziale Ho la possibilità Di farti apprezzare qualcosa Se io per prima L'apprezzo Se non l'apprezzo È un problema E quindi con Natale sul Nilo Mi sa che non funziona Mi sa che non riesce Senti Noi alla fine Sempre Dopo La cosa ai dieci film Ragazzi Ve li abbiamo ripetuti Magari Più tardi Fra qualche minuto Ve li diciamo Prendiamoci due minuti E ti chiedo Ti è mai capitato E qua Non so se ce lo puoi dire Nel caso Dimmi Non so Cazzi vostri E noi accettiamo Ti è mai capitato Di dover parlare Per forza Bene di una cosa E di avere estrema difficoltà Nel doverlo fare Sì Ti dico anche di cosa Se vuoi Ah se vuoi Io non so Fino a che punto Possiamo arrivare Se puoi Vai Vai Non vogliamo sapere Il contesto Dicci cose Perché intanto Grazie Sono abbonati Due ragazzi Grazie ragazzi Scusate Non ho perso L'alert Che ho preso Alla discussione Che cosa Vi tengo Vi tengo in sospeso Eh Tipo emozione Ve lo dirò Dopo che mi sono soffiato Il naso Perché mi sta risanendo L'allergia Datemi un secondo Vai 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 Disattiva l'audio Vai Disattiva l'audio Vi ho detto Di soffiato Ragazzi Super interessante Questa sera Io spero Che vi sia piaciuto Fra l'altro Per chi magari Se c'è qualcuno Non frequenta Questo canale Dieci film Questa Questa rubrica Perché a me Non mi piace Chiamarlo format Mi piace Chiamarlo rubrica È una cosa che l'anno scorso Abbiamo fatto molto spesso E che poi Una certa È finito Cioè O comunque Si è interrotto Perché era un casino Chiamare le persone Bla 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 Eccetera E Pensare di chiamare Violetta Mi ha dato il là Per poterlo fare di nuovo Violetta è stata Super interessante La cosa vi è piaciuta Da quello che leggevo Io ogni tanto Buttavo l'occhio Nella chat Per vedere se eravate interessati E lo siete stati Quindi la cosa mi è piaciuta Lo rifaremo Mi sei soffiato del naso Tutto a posto Ci puoi raccontare? Sì Vai raccontaci di questo film Che hai dovuto dire per forza Wow E poi no Guarda Allora In realtà Ho fatto un compromesso Perché Io Non ce la faccio Parlare bene Di una cosa Che non lo merita Però Però Ovviamente Era Era un po' Come dire Era una situazione In cui Non potevo Era complicato Distruggerlo Ok E quindi diciamo che Ho parlato In maniera Diretta E aperta Con le persone Che dovevano spingere E volevano che io spingessi Il film E Cioè Lo sapevano anche loro Che insomma Non era un capolavoro E quindi diciamo che Io ho detto Di base Quello che comunque Dico molto spesso Anche sul mio canale Normalmente Ovvero È difficile È raro Che io distrugga un film Proprio dal primo minuto All'ultimo C'è sempre qualcosa Che si salva È comunque Un prodotto Fatto da tante menti diverse Da tanti reparti diversi Da qualcosa Si salva sempre E Quindi nel senso Concordiamo Che sarebbe stata Da parte mia Una recensione Comunque onesta E che avrei detto Effettivamente I lati positivi Che ci sarebbero stati Ma in maniera Molto diplomatica Quindi più diplomatica Del solito Avrei comunque evidenziato Anche dei lati Che non lo rendevano Un film Eccezionale Ma Effettivamente C'erano anche Dei motivi Per cui quel film Non voleva nemmeno Essere eccezionale Ok E Forse adesso Che vi dico Qual è Magari capite Un po' meglio Di che cazzo Sto parlando E si trattava Di Game Therapy Il film Il primo film Con gli youtuber Io ero Un'agenzia All'epoca Con Webstar Channel Era proprio difficile Parlarne bene Però Se vuoi Puoi ancora vedere La mia recensione Sul canale Perché ancora c'è E molte persone All'epoca Mi dissero Brava Nel senso Che riconombero Il fatto che Riconombero il fatto Che Ero riuscita A Non distruggerlo Né esaltarlo E come dire A fare lo slalom Uno slalom elegante Tra le cose che funzionavano E quelle che no Tutto qui Che cosa funziona Non era neanche così difficile La telecamera La telecamera L'accendevi e funzionava Basta Se tu ci metti la premessa Che è un film Che È una 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 operazione Di marketing Che vuole In quel momento In quegli anni Mettere in scena Degli idoli Di youtube Di centinaia Di migliaia Nel caso Di fadij Milioni Di persone Mettili tutti e quattro Insieme Quindi proprio Stiamo parlando Di milioni di persone Li metti tutti e quattro Là Fanno quattro cose Completamente diverse Magari se conoscono Pure appena E non sanno recitare Perché non sono attori Professionisti Quindi è giusto Ed è logico Che non abbiano Quella preparazione E perciò È giusto Ed è logico Che il film Abbia delle grosse pecche Certo Cioè Logico Veramente Un semplice Un semplice atto Di logica Però è un'operazione Di marketing Tu lo fai Con quella finalità Là Perché vuoi Provare a sfruttare Anche sul mezzo cinema Quelle quattro Personalità Che sul web Fanno milioni E quindi Di visualizzazioni Di spettatori E quindi Fai qualcosa Rivolgendoti A un pubblico Molto giovane Che era il loro Pubblico E quindi Che accetta Molto più facilmente In maniera molto Meno critica Un lavoro Che non è eccezionale Perché magari Vanno per vedere Il proprio idolo E non il film Della vita Certo E quindi Se lo inquadri Nel Motivo Per cui è stato fatto Ha il suo senso E quindi Con onestà Devi dire Ok Cioè nel senso Se l'avete fatto Per questo Sì Non è il film Della vita Però è un film Che ha una logica Di esistere Magari è una logica Cinica Sì Sicuramente sì Però alla fine La maggior parte Dei film Che magari Anche quelli Che ci fanno sognare O quelli Che ci fanno Meno sognare Magari siamo un po' Più critici Però nel senso Il cinema è un'industria Quindi fondamentalmente Le grandi major Sono un'industria E quindi Non è che fanno i film Solo per la gloria O se O non si assicuro O non sono sicuri Che gli tornino indietro I miliardi Capito Tu hai mai visto Sì Li hai visti sicuramente E National Treasure Quelli con Nicolas Cage Il Come si chiama In italiano Quelli della Disney Con Nicolas Cage Che fa Questo professore Che cerca Il tesoro Il mistero Dei Templari Il tesoro Dei Templari Li hai visti? Scusami Ovviamente Ma tu mi stai chiedendo Se ho visto Qui con Nicolas Cage No che non l'ho visti Scusa Non li hai visti? Ma sono belli Ma c'è Nicolas Cage Allora Purtroppo Io infatti Per questo Perché normalmente Non l'avrei chiesto Li ho visti Ma sapendo il tuo Amore folle Per Nicolas Cage Te l'ho chiesto Quindi non li hai visti Ti sei rifiutata Comunque Vabbè ci sta Comunque Sono dei Dei film d'avventura Diciamo così Disney Carini Sono dei film d'avventura Carini La Disney Non fa il terzo Perché i film Sono andati bene Quindi sono andati Molto bene Al botteghino Sono andati bene In on demand Sono andati bene In DVD Sono andati bene Da tutte le parti Allora tutti si chiedono Ma perché non fanno il terzo Se sono andati così bene La Disney non fa il terzo Perché non è riuscita A trovare La controparte Gadget E soprattutto La attrazione turistica Per cui Quei film In realtà Erano nati Quelli Sono nati Per portare avanti Un mondo Per poi creare Delle attrazioni turistiche Ai vari Euro Disney Disneyland Eccetera Eccetera Non essendoci riusciti Né con i gadget Perché proprio Non esistono gadget Di quel film Né tantomeno Aver creato L'attrazione turistica Hanno Deciso Che fare Il terzo film Era inutile Io ho detto Sì Facciamo un film Il film piace Perché se ho piaciuto Gli altri due La gente va a vedere Il terzo Ma non ci interessa Perché tanto Non ci possiamo guadagnare Lì dove ci interessa Veramente E quindi Non facciamo il terzo Quindi sì Questo era giusto Perché non mi sorprende Che mi dici sta cosa Capito Non è che mi viene da dire No ma che davvero Mio Dio Cioè Hai ragione Cioè È perfettamente Nella logica Delle major Cento grafiche È una cosa simile Giusto Per chiarire Anche alla chat Il fatto che Il cinema Sì È letteralmente Un'industria Quindi anche una cosa Che comunque Al pubblico piace Che comunque In cassa Come film È come quello Che deve fare un film Non viene Non va avanti Per un motivo Totalmente collaterale Che però È una questione Di mercato È una questione Di soldi È una questione Di industria E quindi Non lo fanno Perché non sanno Come fare le giostre Del film stesso È una follia Se tu consideri Che Jungle Cruise È basato Su una delle loro giostre E lo era anche Pirati dei Caraibi Insomma Cioè Sicuramente è un aspetto Che a loro interessa Molto Fanno domandina Su Ben Affleck Perché anche Ben Affleck Ha per te Lo stesso effetto Di Nicola Gabbia Non lo so Guarda Io ho I miei attori Del cuore E i miei attori Del non cuore Del cuore Sì A parte Nicola Gabbia Chi c'è A simpatie E antipatie E anche a talento E non talento Mettiamola così Però È anche vero Che io ci gioco Molto su questa cosa Ci scherzo molto Vorrei che questa cosa Fosse chiara Perché Sì Ben Affleck È un altro di quelli Che non posso vedere Mi spiace Sono d'accordo Peggiore Batman Della storia Anche peggio di George Clooney Il che è tutto dire Il che è tutto dire Avete visto George Clooney Che fa Batman Ma George Clooney stesso Ha chiesto scusa Per aver fatto Batman Ma lo perdoniamo Però ho fatto bene A chiederlo Hai visto Gone Girl? Sì Anche se c'è Ben Affleck Lì però Lui è perfetto Cioè Ma certo Fa il tonto Esatto Deve fare il tonto minchione Cioè deve fare proprio Il minchione Che non capisce niente Di tutto quello Che gli sta succedendo Attorno A un certo punto Lo arriva a capire Perché è proprio palese E lui è perfetto Ma sì certo Fa il tonto Comunque La stella di quel film È Rosa Moonpike Non è certo lui Assolutamente Funziona 10.000 volte meglio Come regista Che come attore Cioè secondo me Dovrebbe fare solo il regista Argo è bellissimo Dovrebbe fare solo il regista Perché se mette a fa Batman Cioè Infatti ora ha finito Basta Tra l'altro ha dichiarato In questi giorni Che finalmente Durante le scene di Flash Ha capito come Se faceva il Batman Ha detto Finalmente ho capito Questa volta Questo Batman Mi è venuto proprio bene Adesso sto parafrasando Ed è l'ultima volta In cui lui comparirà come Batman Io dico Hai fatto tre film In cui hai fatto Batman L'hai capito adesso Zio Vedi Te ne devi andare Dicono che Ho letto l'altra volta Che pare che sia stato Maddemon Lo sono molto amici Ma sia stato Maddemon A convincerlo Tipo Zio Basta Cioè A canna Sta storia Io spero che Maddemon Prima o poi Gli dirà Zio Fai il regista Perché io sono Assolutamente d'accordo Con te Su Ben Affleck Ma in Go Girl Mi è piaciuto Perché effettivamente Il personaggio È lui Un minchione Lì in palo Totalmente tonto Che fa qualcosa Che prova a far figo E non ce li esce Perché sua moglie È centomila chilometri Avanti a lui E lui è proprio Un emerito coglione Ma lui infatti O ti dico O ha sbagliato Tutti i ruoli Della sua vita Cioè ha fatto Tutti i ruoli In cui poi Alla fine faceva Una figura Non Che non lo valorizzava Sinceramente Oppure Deve proprio Lascia perde A fa l'attore Oppure appunto Non c'è mai stato Un regista Forse Questa produzione Di Go Girl Che l'ha inquadrato E ha detto Questo deve fare Solo sti ruoli qua Sa dove altro Mi è piaciuto Che non è che Mi è piaciuto lui Però mi è piaciuto Il film Che giustamente Pacemaker dipendente Tira fuori Dogma L'hai mai visto Dogma Di Kevin Smith Sì sì l'ho visto Sì sì l'ho visto L'ho visto Dogma è un filmone Per me è un filmone Dogma Cioè Per me è Ben Affleck Lorovina Ok però Quello è un filmone Perché c'è il Cristo Compagnone Ragazzi è una delle cose Più belle Che abbiamo visto Dentro un film Per te Ben Affleck Lorovina Ci può anche stare Per chiudere E non chiudere Ovviamente Con Game Therapy Che Complimenti Sei riuscita A dribblare molto bene Brava Ma sono stata molto onesta Anche con le persone Che me l'hanno Chiesto Di fare Quella recensione Su quel film Cioè Non volevo Di cazzate a nessuno Fondamentalmente E anche Le persone Che hanno visto Il mio video Hanno capito Cioè Non Non gli ho fatto Una marchezza Non ci sono sentiti Presi in giro da me Non gli ho improvvisamente Cioè Non mi hanno visto Che improvvisamente Sono impazzita È una cosa Che palesemente Non è Un grande film Della spaccio Come tale Capito Cioè Quindi Io ho un minimo De onestà Intellettuale Capito Cioè Non ci riesco A Devastare O esaltare Al contrario Di tanti altri Hai secondo me Una Una correttezza Nel lavoro Che fai Che non hanno tutti Perché Per la gente Che Per la gente Che Le persone Che mi seguono Perché Le persone Io Non penso Che siano stupide Fondamentalmente Quindi Secondo me Se ti seguono da anni E ti conoscono Più o meno Magari ti conoscono poco Perché ti vedono Ventimiglia a settimana Su quello non c'è dubbio Però Conoscono Quel pezzo di te No E comunque Se ne accorgono Se quel pezzo di te È Che fa sempre le cose In un certo modo Improvvisamente È diverso Sbrocca Sì 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 Io lo so Se che se ne accorgono Poi conosco I miei gusti Cioè Lo so Quindi nel senso Non mi va Di 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 Trattarli come stupidi Fondamentalmente Capito Ma non è da tutti Non è da tutti Non è da tutti Poi magari Cioè Chiaramente Di alcuni film Si tende a esaltare Di più I lati migliori Anche se hanno Più dei lati peggiori In alcune Alcune volte In cui magari Ti chiedono Di parlare bene Di quel film Però io non è che Ti spaccio un film Tipo Marchietta No ragazzi È troppo bello Assurdo Vedetelo No Innanzitutto Se è un film Che comunque Magari Se mi chiedono Di sponsorizzare Natale sul Nilo Per fare un estremo Io una cosa del genere La rifiuto Se mi chiedono Di parlare Di un film Che Magari Io non l'avrei scelto Non è tra i miei preferiti Però In fondo Secondo me Può avere un pubblico A cui piace Può avere I suoi lati positivi Può avere il suo target Allora Vediamo l'aspetto Gli aspetti più positivi Di questo film Parliamo in un certo modo Poi Ripeto Sinceramente Le recensioni Sponsorizzate Sono Rarissime Sono delle rarità Io praticamente Sono Anni Non vengo mai chiamata Per fare una recensione Ad hoc Perché Non lo so Perché Non si fa tanto Questa cosa Forse perché Comunque di default Noi le facciamo Quindi Nemmeno investono Su di noi Per fare delle recensioni Tanto comunque Le facciamo Quindi Forse nemmeno gli serve Al massimo A parte delle volte Quando le chiedono È perché sanno Che il film Non è un gran che Vogliono invece Un commento positivo E quindi Provano a dire Ti diamo dei soldi E tu ne parli bene Poi però trovano Dipende chi trovano Ci sono diverse persone Che dicono Ok E ci sono persone Invece come Giustamente te E altri come te Che giustamente dicono No ok Va bene Però non posso Andare Correre dal cinema Vedere sta roba Perché poi mi tirano Le piastrelle in testa Al massimo Una via di mezzo Perché comunque Magari il lavoro Lo accetto volentieri Perché devo parlare di cinema Perché Comunque si tratta di Di Un guadagno Che mi aiuta A continuare A fare quello che faccio Quindi magari lo accetto Però sempre con quel compromesso Del Ok Però Mi lasci Parliamone Per esempio Mi avevano Forse una delle ultime Che avevo Che mi avevano pagato Per parlarne Sono stata molto fortunata Perché era The Voice Ovviamente Quando io parlo Di una cosa Sponsorizzata Lo dichiaro Lo dico sempre Tutto quello che voi Vedete sul mio canale Se io non dico Questo video Sponsorizzato Da Nessuno mi paga Per farlo Perché è illegale Fare la pubblicità Qualcosa Senza dichiararlo Veramente Esatto Quindi Non farei mai Una cosa del genere Quindi se non mi senti Perché a volte Magari alcune persone Pensano Ah parli di questo film Così perché Ti hanno pagato No se non lo dico No raga Noi abbiamo Parlato talmente tanto Di Freaks Out Sia io personalmente Che in generale Slim Dogs Abbiamo avuto pure Gabriele Mainetti Eccetera Che diverse volte Ci hanno detto Ma scusate Ditelo che vi hanno pagato E il problema È che non l'hanno fatto Quindi Cioè come faccio No raga C'è un ente C'è un ente Che verifica queste cose Assolutamente Non dichiarare Che si sta facendo Un advertising È un rischio clamoroso Innanzitutto Per te Ma le distribuzioni Vabbè Le agenzie stesse Le aziende stesse Cioè questa cosa Ormai l'hanno capita E tra i Nel brief Ti scrivono proprio Mi raccomando Non ti dimentica De dichiarare Che è un advertising Perché chi paga Paga l'influencer E paga anche l'azienda Quindi cioè Non è uno scherzo Quindi ovviamente Le cose sponsorizzate Ci tengo a specificarlo Infatti Su The Boys Ero stata fortunata Perché a me era piaciuto Da impazzire E quindi Ho avuto proprio Me l'ha solo proprio goduta Quella cosa Perché Quella è il top Quando te pagano Per parlare di una cosa Che ti piace Cioè quella è proprio La gioia Capito Infatti abbiamo fatto Tutta una disamina Un'analisi Sui personaggi Cioè Io ero felicissima D'avrei fatto quel video Sì anche noi Abbiamo fatto delle robe Per The Boys Non nostre dirette In collaborazione Anche una roba nostra Mi pare Su Prime Video Comunque quando Fra le tante cose Per fortuna Finora ci hanno proposto Quelle che ci piacciono Quando si parla di robe Sponsorizzate Quando si parla di robe Che ci piacciono un po' meno Siamo riusciti Anche noi A girarci attorno E a portare Un contenuto interessante Comunque Questo è Questo è un goal Senti Ti fanno una domanda E poi veramente Tre ore Che ti ho praticamente Sequestrato E l'1 a meno 20 Pacemaker dipendente Chiede sempre Che è quello che ha detto Che adesso ti ama Quindi una domanda ci sta Qual è quel film Che sai Che è veramente brutto Capisci che è brutto Ma proprio È tutto sbagliato Ma lo guardi Lo stesso con gusto Cioè ci deve essere Ce l'abbiamo tutti Ma Ma c'è più di uno Ma tanti Tirane uno Cioè sì Allora Un film orrendo Che però Mi piace lo stesso Oddio Queste domande A bruciapelo Mi lanciano sempre Nel panico Non c'ho mai A risposta pronta Però guarda Credimi Ce ne saranno un sacco Veramente Però la cosa Importante È sempre Riuscire a discernere No Che tu dici Guarda questo è un film di merda Lo ammetto Però a me mi piace Da morire Mi piace da impazzire Capito Perché alcune volte Questa cosa non si associa Alcune volte Se ti piace Se qualcuno piace un film Allora deve essere Per forza bello Può essere pure brutto Però ti piace lo stesso Però ti piace Ma non è un problema O può essere bellissimo E non ti piace Voglio dire Non ti viene Vabbè ti aiuto Allora Per esempio Non proprio bruttissimo Dove è tutto sbagliato Eccetera eccetera È una merda Però mi rendo conto Che è una mezza minchiata E che ci stanno Dando un sacco di problemi Però mi fomento Come un cretino Quando lo guardo È Pacific Rim Perché Il Pacific Rim Di Del Toro C'ha una serie De cose Che non ci hanno senso Ma già Dalla parte In cui questi Stanno cambiando Dimensione Parlano con una radio Che cazzo Ne so A sti robottoni Che si muovono Con gli elicotteri Non ci ha senso Tante cose Che non hanno senso Però ogni volta Che Mi piace Proprio tanto Lo guardo E mi fomenta Comun coglione Perché è bellissimo Pur avendo Una sbalanga Di problemi Ma sti cazzi Anche per esempio C'è Zikas Che dice Ragazzi 2012 È il guilty pleasure L'altra sera Lo davano su Sky Tardi Girando su Sky Io non c'avevo sonno Martina Voleva andare a dormire A un certo punto Spunta 2012 E mi fa Ma che è sta Ma le faccio Sì però Mi sa che lo guardo C'è qualcosa che Non lo so Però Mi sa che lo guardo Mi sa che mi voglio Fare del male È una merda Cioè un film di merda Un film dove L'unica cosa che fa Emmerich Quando girassi film Va dai tizi Che fanno gli effetti speciali Loro praticamente Fanno il film E lui dice Di più Di più Deve esplodere Di più Deve essere più esagerato Di più Di più Di più Una volta che Tutti gli effetti speciali Sono preparati Non pronti Ma preparati Cioè di quello che deve succedere Di quello che si deve vedere Lui gira il resto del film Cioè non è che Gira il film E poi ci mettono Gli effetti speciali sopra Far contrario Prima pensano A tutte le sequenze d'azione Con gli effetti speciali Pazzeschi eccetera E in funzione A quello Girano il resto del film Quindi cioè Lui lavora Sì sì Lui lavora in questo modo Ma stica Cioè però Ti metti là e lo vedi C'hai qualcosa del genere? Ma Mi stanno venendo In mente film Sempre Un po' vintage In realtà Tu hai detto cose più recenti Un po' vintage Anni 90 Che effettivamente Sono proprio stupidi Cioè cretinoni Demenziali Cioè ho quei film Hai capito Sai il classico filmazzo americano Che è così Cazzarone Che però Ti fa staccare il cervello E ridi come Un pazzo Capito Oppure che C'hanno anche magari Delle cose brutte Dentro problematiche Sono vecchia di male Capito Alcuni non mi fanno Ridere più Effettivamente Altri ancora Per esempio Io mi ricordo Un film cazzonissimo Tremors Con Kevin Bacon Un giovanissimo Kevin Bacon Ma è un cazzo Di capolore C'è una merda Il mazzo americano Capito Quello così Un po' greve Capito Bellissimo Con loro che C'hanno queste battute Assurde Dove dicono Un sacco De parolacce È tipo Una cloaca Però Mi piaceva Le battute cult Di Tremors C'hanno le parolacce Capito Però Mi piaceva tantissimo Quello Oppure Ace Ventura Però Missione Africa Il primo Non mi piaceva Il secondo Il secondo Cioè È super cringe È demenziale da morire Anche lì ci sono Delle battute Imbarazzanti Cioè Che però Sai Quel lato giocoso Che ti fa Che ti fa ridere Il cinema è anche questo Ragazzi Il cinema È anche questo Ebbene sì Quindi Da una parte Faccio tale intellettuale Però dall'altra Ci stanno pure i filmassi Così quelli un po' Grossolani Che però Mi divertono Mi piacciono lo stesso Wow Il primo È abbastanza terribile Poi è invecchiato davvero male È super transfobico Vabbè Non mi piaceva manco all'epoca Il primo Perché mi dava Cioè Non capivo perché Adesso ho capito perché Però all'epoca Non capivo perché Ma mi dava fastidio Già all'epoca Beh Ragazzi Allora abbiamo Sequestrato Violetta Per ben tre ore e un quarto Questa puntata Di questa sera Diventerà anche Farà parte del podcast Perché Qua in questo canale Ci sono un trilione di cose In tutto questo trilione di cose C'è anche un podcast Adesso ci stanno scorrendo Tutti i link in chat E questa puntata ovviamente Diventerà un podcast Lo metteremo da dentro Però Ho appena letto Che qualcuno Mi stava tranquillizzando Dicendomi Che aveva il DVD Di Attila Di abbastanza Beh Vabbè Allora È Eli Eli è una ragazza Che sta ogni sera E per suo giabba E fa sempre sbragata Alle risate È molto particolare E io ci credo Non pensare Che quella sia una cosa Scritta lì Perché forse È una battuta Secondo me C'è l'acqua Ci credo anch'io Secondo me C'è l'acqua Il DVD Prima di chiudere Per rincuorarti Per il discorso Di ritorno al futuro Ti confermo Che Non so se sai Che in più E più E più Interviste Sia Robert Zemeckis Che Bob Gale Che sono due personaggi Due scrittore Regista Che hanno Buona parte Dei diritti Di produzione Di ritorno al futuro Hanno dichiarato Che Né in loro vita Né in loro morte Ci sarà mai La possibilità Di un sequel È un remake Di ritorno al futuro L'ha dichiarato Robert Zemeckis Insieme a Bob Gale L'hanno dichiarato Quando si è cominciato A parlare Di un ritorno al futuro 4 Loro hanno detto La Universal Ce l'ha chiesto Più volte Ma proprio Tante volte Ce l'hanno chiesto Di farlo Ne parlano E ne riparlano E ne riparlano Ma fino a quando Siamo vivi E anche Quando saremo morti Perché c'è Con i figli Eccetera Può fare quindi Possono impedirglielo Per sempre Che bello Cioè poi bisogna vedere Se i figli A un certo punto Dicono Non me ne fotte un cazzo Di quello Che ho giurato A mio padre E quindi Ve lo faccio fare Sul letto di morte Ve lo faccio fare Però Loro hanno dichiarato Tutte e due Questo Né in vita Né in morte Esisterà mai Un remake Un reboot O un sequel Di ritorno al futuro Questo Poi Davvero Io apprezzo davvero tanto A quantomeno L'impegno che ci hanno messo A non volere questa cosa Davvero Non lo vogliono Così li stimo ancora di più Come artisti Non lo vogliono Nella maniera più totale Io concordo Totalmente Assolutamente Assolutamente Perché ti ripeto Quando sono andato A vederlo Al cinema Il secondo Nel 2015 Nonostante l'età Nonostante Le magagne Degli effetti speciali Che si vedevano Dei cavi Che tenevano Si è rifrizzata Violetta Ok Di sé Sbloccata Nonostante Ti sento a scatti Adesso ti sento liscio Poi Dicevo Nonostante le magagne Mie le cose Era ancora un film Che al cinema Reggeva Nonostante Tutti i problemi Che ci potevano essere Detto questo Nonostante È un film Dell'85 Ovviamente Gli effetti speciali E tutto il resto C'hanno la loro età Ma è bello È bello anche Che c'hanno la loro età Insomma Cioè L'anzianità È giusta È bella E va preservata Grazie Te lo dice Un 41enne Ragazzi Detto questo Grazie mille Violetta È stata una serata pazzesca Ti arriverà Prima o poi Una bottiglia di vino A casa Mi dovrai dare Il tuo indirizzo Perché io ho il tuo nome Non ho il tuo indirizzo Perché a sto punto Al prossimo Invierò una bottiglia di vino Ma ne toccherà Una anche a te Se preferisci Ti mando una birra Però non una birretta Una birra quella grande Preferisci la birra? Fai tu No no Siccome tu sei un esperto Di vini Secondo me Mi sono fatta questa idea Io non sono un esperto Io lo bevo E basta Io non ne capisco Un cazzo Però lo bevo Però c'è un'esperienza Quindi 30 anni buoni Di vino alle spalle Perché a 10-11 anni Ho cominciato a assaggiarlo Quindi 30 anni buoni Di vino alle spalle Ce l'ho Ti mando un del vino Uno che ti piace Assolutamente Uno che mi piace Ti faccio un'idea Di che cosa bevi di solito Te lo farò avere Ti farò avere Una bottiglia di vino Che mi piace Per il resto Per tutti gli altri Ragazzi in chat Vi ricordo che Domani sera Gianni Ha deciso Ha deciso Lui e io Non ho possibilità Di replica In questo canale Si giocherà Lupus in tabula O fabula Quello che è Quindi domani sera Saremo una decina Di persone Collegati qua In video In video chiamata Che giocheremo A lupus in tabula E sarà forse La prima Di tante altre volte Quindi se la cosa Vi interessa Domani sera Alle 9 e mezza Sempre su questo canale Giochiamo a lupus in tabula Io Gianni E altri ragazzi Che fanno parte E lo staff Del canale Poi ci sono Insieme a noi Ovviamente Visto che dobbiamo Essere in 10 Ci sono anche Degli abbonati Perché con gli abbonati Spesso facciamo queste cose La sera giochiamo A scala 40 A 1 A risico No qua dentro Vabbè Cose matte Follie Follie Grazie a tutti Buonanotte Grazie Violetta Grazie a te Ciao 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 a tutti Buonanotte Grazie a te